DOS, DOS, D-O-S, di Pokémon per la remake, mamma mia oggi fa caldissimo Ah, è vero! Mi sono di... I forgot, I forgot about that, I fucking forgot about that, my bed, my bed, my bed Se tanto, ieri notte ero stanco ma oggi ce li facciamo tutti questi qua, poi torno indietro Però dalla sesta gen in poi Pikachu dice Pikachu, quando attacca, quando spona Devo trovare una soluzione alternativa, ma al Black Friday me la compro E compro una lampadina di quelle là da streamer Perché c'è, qui sopra io ho un faro, non ho, non ho una luce, ho il sole! Il sole ho qui sopra Non ho una lampadina, ho il sole, c'è il sole, il fucking sole Va bene Inibus, comunque, dai, dicevamo che questi qua ce li facciamo tutti Verranno demoliti tutti questi qui I know you can do it I know you can do it I know you can do it Adios Adios Beh, non penso che Vado a usare battiterra effettivamente, sono un po' stupido Oh no Oh, oh my Oh my Adore pure a vedere se... Oh, almeno torno su Beh Faccio redro front Pessima scelta Usare Zubat Sare che era un momento, era dubissimo Ah yes Di sasso Sì Comunque io sono convinto, un giorno faranno un vero upgrade grafico Big gold fat sasso È corretto Oh no Dovrebbe essere time limit Se non erro Ah, è vero Ecco perché non ero tornato qui indietro Perché non posso Deve aspettare Natale per prendere davanti Com'è Caster Va bene Amore Allora Aspertare Allora Poi se c'è come in platino la parte del resort Per farmare back in endgame sarà più facile Perché stanno tutti in un unico posto almeno Mazza Si pianta proprio il gioco comunque Quando partono queste cose qua Ok adesso io questo qua lo apro a metà Dovrò comprare delle velox ball appena Lo spacco proprio E' tutto super f contro di lui Sono normal volant adesso quindi Sono normale volante Ok Dai Avendo preso Broadborne recentemente i miei mi hanno dato che posso prendere un... Ah vabbè vabbè onesti Only that was caught Chattano tutti ci aggazza. Sturdy. Geodude mi baffa. Grazie Geodude. Ridicolo. Vai. Adios. Dai solo per voi attivo le animazioni. E so che a molti di voi piacciono le animazioni che si rallenta, fanno un slowdown del combat. Sì, non uso il Primplup. Il Primplup non ce l'ho in squadra per adesso. Perchè Shellos è più forte. Cioè preferisco Gaspar. Con lo starter ci farò le uova e poi dalle uova prenderò la natura buona e lo grinderò da lì. Però lo starter lo tengo via di solito. Cioè ho stabelsata anche lui. Spergi. Ok. Rock Polish No perché Saranno tutti così eh Ah no non è una storia di questo Voilà grazie mille per il follow Anselni grazie mille per il follow Anselni Lo switch Pokémon lo tengo sempre disattivato però Faccio sempre automatico perché Perché sennò è troppo facile davvero Un momento con le frecce direzionali c'è una input lag tremenda Ehi bronzor Ok La bronzor è interessante Bronzor può essere alternativa al Misdrebus Cioè a lui che non so effettivamente cosa fargli fare Il problema è che anche lui è roccia mi pare Mi pare Lui è psico più Cioè se lui è psico più roccia No mi sa che è psico acciaio Se è psico acciaio Proviamo 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 un po' di fortuna Proviamo a lanciare la Pokéball adesso Gridi Un po' gridi Dai Fortuna Sì è acciaio psico Non lo so Non lo so Anche perché Misdrebus piace parecchio Misdrebus mi piace parecchio C'è pure l'immunità alle terra Questo qua Oh perché mi metterebbe Mi sa che mi metterebbe coverge su veleno Che è comoda Ti fa esplodere da buio Ovviamente L'8 però l'8 è comunque buono Tengo Misdrebus però Per ora tengo Misdrebus Poi ci pensiamo Oh no Ancora No Ancora non ho beccato il shiny Allora lo starter però è nel box Non lo sto usando Lo userò Lo userò in un secondo momento Ci farò fare l'uovo Non è adesso on Perché ripeto Preferisco portare su Shellos Che è qui Che piva Che prima Ma c'è lei Porca droga Non stavo leggendo Sono un cretino Giustamente Sono un cretino Sono un cretino Lo so che molti Dice Spike ma sei una bestia Lasciare il tuo starter indietro Ehi ciao sono nuovo Volevo sapere Che giochi fai Allora Porto Principalmente Monster Hunter Anche se in questo periodo Lo sto facendo meno Per ragioni Di Contenuti Ecco Non ci sono proprio Tantissimi contenuti Su Monster Hunter Poi Soulslike Quindi Dark Souls Dark Souls Bloodborne Sekiro Squelage Dobbiamo ancora espandere E poi Casual Nel senso che farò Pogamon Ma potrei fare anche altro Dipenderà dal momento Dal giorno E principalmente Monster Hunter Channel E poi Non è Esatto E poi Dice Di Si E poi Un' Dice Il Grazie a tutti 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 Mi sono targettato da solo Grazie a tutti 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 Io Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccolo Beautyfly Grazie a tutti Nota per Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E poi Grazie a tutti 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 Buongior Grazie a tutti 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 Buona Grazie a tutti 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 Però voglio Grazie a tutti Grazie a tutti Non posso Grazie a tutti 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 su PS5 Grazie a tutti 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 Quasi Grazie a tutti Ah Grazie a tutti Ah Grazie a tutti 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 Hanno Non so Grazie a tutti 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 Tutto Grazie a tutti 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 Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti E' anche Grazie a tutti 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 Oh no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché se Oh no Illimitati Grazie a tutti 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 Ben Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Bene Io non ho Grazie a tutti 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 Buono buono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io E' Grazie a tutti No No Grazie a tutti E' 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 Grazie a tutti E' 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 Grazie a tutti E' 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 Grazie a tutti E' 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 E Mi insegno un furto a Luxio, così quasi. Grazie a tutti. 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 Se loro ti mettono acqua, tu gli metti terra. No, se loro ti mettono acqua, tu gli metti... O io metti acqua in risposta. Ecco, ti ho trovato veramente la debolezza. Ti serve qualcuno che ti copre acqua. Non c'è nessuno che ti copre la debolezza d'acqua. Se loro ti mettono terra, tu gli metti dentro. Se loro ti mettono... Volan... 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 Penso che il contento è l'ultimo tipo di tenere a geloraggio, quindi lo può fare uguale. Quindi ti serve sicuramente qualcosa tipo elettro, per dire. Sì, ti serve tipo elettro... Cosa che ti copre acqua, però. Che non sia semplicemente... Ok, ci resisto, perché volendo ci puoi mettere dentro, ma... Quindi elettro... Erba... PAM 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 E' buio veleno. Mi sembra 60€. 59,90€. Aspetta che livello ha quel chance? Anzi... E' un po' curioso. Shellos che ancora non è terra. Quindi addio. Che dico tu... Che dico tu... Avrei dovuto mettere... Sì... Pietrovano... PAM 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 PAM. Questo è un po' qualcosa di cose... Orchè... Questo... Questo è proprio albero. Che dico che? Beh... La... 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 50% di precisione, by the way. Bella, ti vediamo. Minchia, la carta cambio giro? Che chill. Ragazzi, questo oggi... Che belli. Ogni tanto ci vuole, no, quel periodo in cui, tipo, quel giorno, dopo che tu hai fatto una settimana tosta, insomma, anche se sono super soddisfatto di questa settimana in realtà. Però, insomma, che arriva alla fine settimana e diceva, vaga, su oggi, tipo, davvero, Today I feel like I'm doing anything. Ci sta. Spy, che cosa ne pensi della mod Ice per Mostra Another World? Ci hanno lavorato davvero tanto e... E ve lo dico, se avessi un computer dove farla girare, io ci farei una livestream. Ci farei tutta la serie sopra. È una bella mod. Ci sono molti... Molte cose dubbi a livello di design che hanno fatto, di cambi di design, che loro pensano che è for the better, ma non lo è, ma ci sono alcune cose che invece sono molto interessanti e loro effettivamente risolvono un certo chunk di problemi di ward abbastanza grossi, in primis il clutch. Ora, loro hanno lasciato il clutch claw, l'hanno reso solo praticamente inutile. È molto debole. Io avrei fatto che... Oh, cazzo. Io l'avrei tolto. Io l'avrei tolto, per inizio, questa roba. L'avrei tolto e basta. Cioè, renderlo... Lasciarlo lì per renderlo inutile e... Tipo, è... Che guai. Ho sbagliato a fare questa mossa. Vabbè, ho portato io i Nuzzle. Fortissima come mossa perché paralizzo sempre Nuzzle, quindi... Non ho manco... Lo sono lento come la merda. Spero tutto. Vabbè. Vi dimostra, vi dimostra un po'. Vi dimostra un po' di chance. Play nice. cosa fa esattamente c'è una patch list un patch log lunghissimo essenzialmente rende rimuove i clagger quindi i mostri non fanno più quella animazione tipo oddio se comunque ti dicevo scusatemi sto vedendo se comunque il TLDR rende tolgono il plugger quindi il drooling dei mostri il clutch flow è più debole potenziano la lancia fucile di tantissimo migliorano un pelo il corno aggiungono molta varietà di balestre perché hanno tunato meglio i proiettili rimuovono non lo rimuovono però tipo il mirino non ti dà più alcun bonus quindi volendo lo puoi montare per precisione però non ha senso quindi hanno rimosso quella roba là questo lavoro di questo genere l'hanno fatto erano molti dei problemi di ward ragazzi cioè di iceborne ora non hanno lavorato sufficienza per me sull'intelligenza artificiale dei mostri questo è il problema che penso cioè non hanno non ci hanno proprio lavorato è la cosa che a me tipo fa un po' tipo ok però è effettivamente una di quelle cose che da fare renderli un po' più lineari ah si poi hanno migliorato le guiding lens tipo le draculi di Relsapigiva le trovi in guiding lens per esempio e puoi portarti tutte le guiding lens al massimo livello perché non scendono più dei tier quindi fanno tutta una serie di cose che sono estremamente comode che io vorrei vedere un giorno anche tipo qui cioè alcune cose sono proprio cose che secondo me avrebbe dovuto Capcom anche fare e non ha fatto semplicemente perché volevano che determinate cose fossero esageratamente grandose perché è voluto ragazzi onestamente ok ma questo in realtà è buono che lui abbia fatto questa cosa perché in realtà adesso io switch e poi questa roba qua mi aiuterà a catturarlo la lezione va davvero un sacco di panni metterò un si metto cianzi davanti anche se ho più sensato giocare e trasformare si 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 hanno fatto hanno toccato praticamente tutte le armi in generale allora hanno tolto quella cosa lì che dici tu per esempio il fatto di poterlo schiantare l'hanno tolto perché lo speedrun il problema è che se esiste ti dà delle opening che sono praticamente dove praticamente l'inizio della speedrun è praticamente sempre uguale e loro volevano evitare questa cosa io non voglio giocare a tirare ma da girare va ci sta è veramente potta puttana ok però c'è un numero vabbè è unaffected no è normal ma si 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 è appunto è normal ma è titeless dopo che ho fatto schiudere quel luogo lì voglio vedere un attimo che cosa è che magari c'anzi me lo tengo in team per un po' magari ne catturo aspetta sì sarebbe il caso che i giochi siano senza i principi sono d'accordo con te quello dai che mi serve sing porca di quella puttana o se lo fail o no 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 non solo per far entrare in rage e ovviamente attivare challenger e tutte queste cose qua ma ma proprio che ma cioè questo è anche il fatto che comunque tu lo schianti al muro è l'apertura per fare tutta una serie di setup abbastanza dei generi molti dei quali oltretutto richiedono praticamente perfezione al frame quindi non è proprio è un ghastly però porto tuttana gioco eh miglia sing ma sing no scusami tanto però sing è il 55% di minchia 55% di precisione 3 hit su 3 buona chance anzi se tu dici parto e addio allora come lo faccio scendere di più THP con Vildrebus esplode con lui esplode con Crobat esplode ce l'ho ah no ha fatto un min look ha fatto un min look e non solo avendo fatto un min look 4 su 4 c'è un CD sniper un sedicesimo 4 su 4 un po' di leggermente più di un sedicesimo non posso scappare e c'anzi non ha mossa che lo danneggiano quindi continuerò a lanciare pokeball you never call me when you're so buona per favore ti prego è un ghastly no è un ghastly si si 15 pokeball per un ghastly che cazzo allora io non so che cosa hanno fatto questi qua mi sembrano i vecchi catch rate sarà che dopo siamo stati abituati male magari hanno fatto per questa roba questo remake hanno riportato indietro i vecchi catch rate mi sarebbe tipo ok e non è nemmeno shine no ciao ma chi cazzo non è sarchias vedo che hai capito tbs 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 Vado qualche puff in a... a cosa? Anzi, sperando che diventi bravo, cioè che... Ma... è andata! Quindi hai i soldi veri, 9000? Eh, che moneta muledo, OP o paye. OP o P, no sb. Gli sprite... gli sprite che usano, no? I Pokémon. Sono una versione un po' lisciata degli sprite che c'erano sul Nintendo DS, però la posa è la stessa. Yeah, è felice. Ok. Gastle, adesso mi vendico di tutto quello che non ti ho fatto prima. E proprio adesso inizierei a piangere in tuffo. Calmanella, non ce l'ho ancora la Calmanella. Pam, 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 tum... Grazie a tutti. 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 Questi 4 Hyper in high rank erano solo eventi e sono totalmente illegali. sono molto più forti. Sono molto più forti. Cioè le versioni G sono solo leggermente più forti. La maggior parte... Cioè... è per dire c'è che tipo... la maggiore differenza che c'è tra gli Hyper, Silver, Lost e Goldianne rispetto alle loro versioni G è che le versioni G hanno... fanno un pelo di anni in più e hanno il Moveset G quindi ovviamente sono più forti. ha G Stolen? L'insfficienza di vattro hanno altri giveri... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ora quel fallito di Blissy Ora Blissy grazie per aver giocato con noi Puoi andare Fatemi riprendere Fatemi riprendere Swablo L'uovo com'è messo? Mi metterà ancora dai 3 ai 4 secoli prima di schiudersi a quanto pare Che ricordi sta canzoncina pure? Questa canzoncina pure? Questa canzoncina pure? Ce l'ho un geodude volante? Non ricordo se l'ho... non ricordo mica se c'ho un geodude volante No c'ho grave Non mi ricordo cosa è Dava di ricompense questo qua Sì? 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 Vediamo un po' se hanno fatto qualche quale di off-life su... Maschio Comunque si hanno fatto dei quale di off-life Facciamo fare un figlio gravele? Sì? Non lo sai che mi sa che è con me? Non lo sai che mi sa che è con me Fammi cercare l'haggroup di... di... di Graveler A memoria gli aggrup non me li ricordo Donatemi ma è davvero su 150 milioni di informazioni Graveler egggrup E allora... Sì? 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 Certamente Sono tra i minerali Insieme a Ok Aspetta come? Sono altamente confuso Potrò controllare Cioè mi segna nel leg gruppo di Graveler mi segna Mi segna Magnemite Ma Magnemite è genderless Perciò è incredibilmente interessante Beh infatti adesso Non può Cioè non funziona così no? Quindi Se qualcosa mi è stato insegnato Mi dovranno dire che non si Che si ignorano Chiaramente Ma l'hai detto poche central Ma perché quello è il modo facile Andare ai sotterranei No comunque sì Comunque sì Androne Androne Un team editor Sì Io pure io Secondo me anche serve Il team editor Il team editor serve Per le partite competitive Cioè letteralmente Non ha senso Perché tanto citano tutti Le incomperi di puro È il momento ragazzi Ai sotterranei Ok Pure internet Davvero Ma che selezioniamo internet? Quindi hanno fatto una sorta di funzione Multiplayer online Ah non è procedurale Minchè il picconaggio Oh Cazzo di sfiga Eh allora starà tipo qua Qua da qualche parte No Qua da qualche parte Qua da qualche parte Qua da qualche parte Ci dovrà essere Una formula matematico-scientifica Per ottimizzare Il più possibile Queste cose Questa Qua da qualche parte 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 Cazzo l'avevo trovato Eh Ma a parte quello Giocano tutti su showdown Eh vabbè si Ma è ovvio Ma perché giocano su showdown Giocano su showdown Perché lì ti permettono Di fare team building Finché Finché Pokemon Company Non glielo farà chiude Perché potrebbero farlo Da un momento all'altro Perché ricordiamo Anche sempre sta cosa Che è quella È concesso Non è dovuto Vediamo un po' quanto Sono scalati Anche per Cricketot Mi manca Lo devo pure catturare Se sono di livello più alto Si sono di livello più alto Scalano Non penso di one shotarlo Anche se dovrebbe essere Super efficace Ma dovrei mandarlo tipo al minimo Carino How cute Qua sotto Adesso che c'è Ripeto Visto che qua sotto È tutta È tutta caverna La Dusk È tipo spaccata Perché ovviamente È ovunque Ok quindi sì I Pokemon scalano Però sono curioso Di vedere se Spawnano anche Diversi tipi Di Pokemon Ecco il Pokemon Già tutto Mega morirà... ah no cazzo... sì che è certo che morirà... no Stardine, 1hp certo già lo sapete ah ok ti permette di trovare... ok e dovresti trovare la location precisa dove sopra sopra stai sul dungeon sì effettivamente questa è una strategia quella di entrare uscire di continuo no ovviamente sì certo cioè nel senso non è che Pokémon Company devi fare... Pokémon Company non deve fare proprio niente però è chiaro che se la gente non viene accontentata... ormai è da anni che poi tutti quanti chiedono feature di questo genere se Pokémon Company non ci accontenta, non li accontenta... è chiaro che prima o poi qualcun altro lo farà al posto suo... eh ma quella è una base segreta... io ancora non l'ho fatta... non so come li fanno... forse non ho ancora sbloccato forze segre... culo... allora hanno mischiato... credo... in parte delle cose per cui questo ho notato... parte delle features di... ehm... che poi sono state fatte su Earth, Gold e SoulSilver... cioè quindi questi... e Platino... quindi questi remake in realtà prendono anche parte di quella roba lì... è più un remake della quarta generazione o in overall... più che di diamante... cazzo due strumenti... andiamo di fino va... ah... c'è un tizio che mi sta aiutando... ah... c'è un tizio che mi sta aiutando... puoi scavare insieme per i suoni... non l'ho trovato... per i suoni... sfondatuto... bum 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 bum... ho OM eh... siamo... ah vs Grazie a tutti Ci sarà qualcosa di importante Per di sbulging light Ci sarà l'ultimo Dove cazzo sta? Oh mio dio Allora raga A parte che mancano Devo due colpi Ola No Oh forse Yes Yes No è sincrono È sincrono Non è asincrono È sincrono È sincrono Però non Però praticamente Non è che scavi tu E scava lui insieme Cioè scavate nello stesso punto Tu però puoi sentire I suoi suoni E vedere dov'è il suo martello Quindi se per esempio Vedo un martello Che sta lì E fa blink Allora vuol dire Che lì c'è un pezzo di ferro E non c'è niente Quindi mi posso adattare Minchia la coop No Dove sarà L'ultimo A rigor di logica Yes Mi sa che Sì Però io non capisco Come si fa a coopare Perché prima è successo A caso Praticamente Andum Andum Silvatico Ok Vabbè dubito Che lo shot Non colpo È andum Salata damage Vita Colpisci da solo da solo, colpisci da solo, colpisci da solo, tot. Se nella provocazione... Pielo striggered... Paralizzati, paralizzati. Proviamo, Clank. Me l'aspettavo, in questo caso me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, in questo caso me l'aspettavo. Eh, sì. Duskball, dai. Sono molto forti le Duskball qua sotto. Ma me ne prendo qualcuna. Quassia volta che tornerà. Ah, dai. Urto. Bella sta nuova animazione di pin miso. Anzi, io le insegnerei un procodentica. Le collisioni non sono fatte bene, però vabbè, questo qua lo accetto. In parte. In parte no. Onyx. Ce l'ho Rayorn. L'ho catturato ieri, oppure l'avevamo sciottato per errore. No, non ce l'ho. No, non ce l'ho. Comunque è davvero buono che scalino col tuo livello o comunque scalano in qualche modo mano a mano che progredisci con il gioco. Oh, c'avevo un oggetto! La prima parte che l'avrei voluto catturare è sporco, in questo caso non cambia niente. Dove mi avvelenare. Ci sta lui pure, ci sta pure Onix che ancora non c'ho che sta qua sotto. Oh no! Oh no, io ho tolto poison barb. Eh, tanto pure in questo caso lo voglio catturare, quindi... come vuole. Come, come! Oh no! 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 Super replicato! Oh no! Professor me lo ammazza! Sì Sì Io non mi aspetto che Onyx stia facile eh quindi Mi fa troppo male sennò Deve aver visto quel pull Mi fa troppo male sennò Quanto è poco lo userà? La spy shadow hunter per prendere Onyx Pam Screech Questa nuova l'aveva ancora mai fatta prima Eh mo se mi rifa frana Bruttino Dove c'ha flash 1 eh Eppure si meno 1 Però Il mio Ok Mi serve qualcuno in team che fa status Provo 100% Perché così se no non può andare Mi serve tipo paralisi Il competitivo Eh non lo so Arcady Cioè dipenderà da come andrà Cioè è scompetitivo tra virgolette So E poi Sì Cioè dipende Charson Sì, no, per il competitivo si era espresso Immagino che intendeva battaglia online Così No, il competitivo nel senso competitivo Sì, serve squadra e scudo per il competitivo No, quello non ce l'ho Sì, lo devo fargli Sì, tipo così Può dimenticare, sì Plim, plim No, no Non avvelenarlo? Ok Uno di vita Literalmente No, non avvelenarlo? No, non avvelenarlo? No, non avvelenarlo? Scritto 21 di 40 Però la mia domanda è 21 di 40 di cosa? Sì, di 21 di 40 c'è Ok, di picconaggio Ma che succede quando arrivo a 40? Lo scopriremo oggi Autodistruzione Aia 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 è uno ok e due c'è una chance abbastanza buona che qua ci sia qualcosa tra i due e non li ho potuti liberare eeeh mannaccio me due ok io so che da qua si possono uscire anche dei bei oggetti tipo le pietre dell'evoluzione perché me lo ricordo che pure queste cose andavamo a spacchettare eccolo eccolo ah non l'avevo liberato totalmente il primo vabbè never mind guarda se che ho pollo non lo so sono un pollo eeeh mannaccio me io ho trovato una lastra per esempio mi ricordo live ieri oltretutto vabbè vabbè ma ci sono poche chance questo qua va di qua quindi qua o è tipo in qua al bordo qua o è tipo qua o è qua però qua non faccio praticamente in tempo quindi direi che in primis o è qua anche difficile difficile vabbè è a caso in realtà vabbè che ha quagsire shiny quagsire mi sembra addirittura vabbè ritornerò su dopo ritornerò giù pul ah ok ciao casano ok andiamoci a rifocillare volete dire che se c'è il wonder trade queste cose qui ci stanno ancora un punto interrogativo queste funzioni qua ancora non le ho esplode perché magari riesco a fare un trade abra per abra non ok ok you can interact with other player by visiting the union room inside of any pokemon center ci sarà altra gente che arriverà proviamo a proporlo proviamo a proporlo proviamo a proporlo trade it pazzapirab sol e non lo so rick prenderei il mio il mio cadabra posso darti i pinzir no se n'è andato saluta le balle ho capito non è che però che sponasse molta più gente di così visto un fantasma ho capito ho capito ma perché mi danno i faridi c'è 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 il pokemon ma ma la gente non lo capisce ti faccio vedere cadabra no c'è ma in quale in quale universo siamo ti faccio vedere cadabra secondo te cosa ti ho pinta rifiutando questo trade tu sei un e come e come si ti faccio vedere tipo vieni bibbar anzi no mi serve bibbar tipo boh che ne so vabbè il problema le persone non sono normali e non tutti capisco che non tutti abbiamo lo stesso livello di intelletto eh posso venire io vabbè ma non 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 era quello il punto stavo provando la funzione in generale si 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 esatto esatto hai capito tutto è giusto è giusto è corretto è corretto esatto cadabra per cadabra è giusto è così è questo quello che va fatto vedi le persone si però per favore decidete premite si e basta chiudiamola sta cosa si esatto è corretto l'uomo di mana ti lo scarichi dal dono segreto ti connetti a internet e te lo regalano bravo gold vediamo se vuole ridarmi indietro alla kazam oppure oppure immagino che lo voglia indietro e tre mettiamo gli indietro va bene ok ah no me lo lascia va bene mi lascia mi lascia la kazam il suo la kazam vabbè quindi niente hanno tolto il wonder trade hanno tolto tutto quel resto delle cose un po' mi dispiace vabbè doveva succedere evidentemente ah però posso posso farlo da ovunque perché è altra poi un po' mi dispiace Ok I mean Ma pure qua non posso entrare nell'herba in questi determinati spugli con l'apice Ok E poi quando tornerò indietro chiaramente Combi sarà pronto Onestamente mi aspettavo di farlo fuori Non mi bruciare Pam, 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 pam C'è lo Seal Dodger Ok 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 E per questo ti ho insegnato Bodyslam Bella le rock Pensando a Bodyslam perché genericamente parlando È utile Ehm Push it on Ma pure pure per le non pokeball adesso funziona Ok Per curiosità Lo provo in tutte le generazioni sta cosa Mi dai Non mi dai due Premier World Invece sì Ah Dopo 20 milioni di anni Posso non comprarle più una alla volta Ma che succede gioco Game Freak Grazie Che è successo Oh C'ho più ragazzi Vi giuro questa cosa la provo a tutte le generazioni Fisso me ne danno sempre solo una Sì Ever Mi sembra che alcuni non te ne darò mancuno Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo finalmente Abbiamo raggiunto il 2021 Mi è ingradibile Le funzioni avanzatissime Quale Utilizzare Anziché Uno è A Che è variabile Uguale a Valore intero Di cose comprate Diviso 10 Ah non ho tolto Poison Bar Io devo togliere Poison Bar Devo togliere Poison Bar Devo ricordare che io devo togliere Poison Bar Water Pulse Guardi che Kliperi è già una Fata qua Perché Fata l'hanno mantenuto Questo qua è un'altra delle differenze rispetto all'originale Hanno mantenuto il tipo Fata Questo l'ho obliterato Figa Dica Che ci sta Insomma per te il tipo Fata comunque Ribilancia una parte del gioco Quindi ci sta che l'abbiamo manco Se non lo uccido Che all'osser recupera Basta I big money Ok Sì Non hanno messo Perché hanno messo solo i primi 493 Pokémon Quindi è Quindi Sylveon Sylveon è della sesta gen Quindi non c'è Guarda, in realtà io capisco perché non l'hanno fatto Un po' una paraculata Però qua possono mantenere il meta Cioè se spostassero, se creassero un competitive qui ci avrebbe kind of sense Cioè, kind of sense O comunque se era una cosa che hanno voluto polisciare di più tutta la parte online Quella del sotterraneo, eccetera Ci sta pure Lasco la scusa che è un remake Troppo a basso il livello è riuscito a me Con l'infiniti milioni di HP che ha Shellos Oh no Oh no Oh no Oh duele Però Oh 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 No, 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 certo, certo Sono quelle cose che ti dici, ok, but why? Che fine Che fine Che fine Ma Gallade Dead è la quarta generazione, ragazzi Minimize, quello era Minimize Bravo, uscellos Sì, Guard War e Gallade ci sono, sì Però Guard War è terza gen, Gallade è quarta gen, quindi ci sta Mega Ball Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, anche io speravo delle Mega Allora, secondo me le Mega Evoluzione Hanno fatto la cazzata che in settima generazione hanno cambiato la meccanica core Secondo me le Mega Evoluzione avrebbero dovuto continuare ad aggiungere in tutte le generazioni Perché le Mega Gastro Perché le Mega in realtà erano una bella meccanica Sacrificavi l'oggetto che ha il tuo Pokémon Ragazzi, gli Eld Item sono fortissimi Alcuni Eld Item cambiano Cioè alcuni Eld Item ti aumentano il danno del 50% Quindi non è che stai sacrificando una cosa da poco per potenziarti il Pokémon Ci sta Secondo me in alcuni casi aggiungere mosse Vabbè, ok, lo sappiamo già Ora E Ci sta tutto Cioè nel senso È una meccanica che funziona benissimo Lo puoi fare solo una volta E ripeto, sacrifichi l'oggetto E È tipo una scelta È una scelta di tutto che devi fare prima Perché non è che lo puoi fare Durante Perché devi preparare Arresta questa cosa di da Trespolosa Comunque Avrebbero dovuto continuare a respandare Ah sì, c'era l'altra ragione che volevo dire Che era che Rendeva alcuni Pokémon Scarsi Ok, li rendeva Più che usabili In alcuni casi Anche troppo forti Ma Sì, non so nemmeno se ci sono le mosse introdotte dopo Eh guarda a Beedrill Appunto io pensavo proprio a Beedrill Quando ho detto quella frase lì Kangaskhan E poi E poi è una cosa che È per forza fan favorite No? È le È il superamento Dell'evoluzione definitiva Del Pokémon Di un Pokémon che è amato Per generazioni Cioè Se domani loro rilasciassero Ah Per tutto lo combazio Se domani loro rilasciassero Mega Impoleon Mega Torterra Mega Typhlosion Mega Inferno Qualcuno direbbe Ah No No Sarebbero tutti Naip sarebbero Quando hanno fatto vedere invece Le Gigantamax Tutti i conti L'abbiamo fatto tipo What? Say what? E poi vabbè Ovviamente sono partiti Meme Eccetera Beccangaskhan poi In sesta generazione Specificatamente Con Cricipugno Attivazione Doppia Ninja Troppo Potente Megagaskhan Era ridicolo Era totalmente Illegale Non c'ho altro Miele No Mi sa che forse Qua Minchia La gang Di Psyduck Questa non me la ricordavo Allora Questa cosa è una cosa Che ho notato All'inizio del gioco I cut di camera Non Non mi piacciono Tantissimo Poco drago Sì Mi hanno dato Chiammi dronomo Sì In prima gene Se andavi a cercare La parte che sarebbe stato Immediatamente Lo star del più forte Per forza E poi sarebbe stato Totalmente Illegale Ne prenderò Dieci Grazie Oh no Minchia È il collezionista Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Non scapperò mai Sarò sempre più forza Perché un tempo Se uccidevi tutti Eri al giusto livello Per affrontare le palestre Dopo che Dopo che loro hanno Vedo Ma noi abbiamo anche Dei celebrati A giocare il nostro gioco E allora Allora hanno Sempre caduto tutto E adesso Se uccidi tutto Questo è già Dalla sesta generazione In realtà Sei super livellato Ma Cioè Non scappare le palestre Oh maim E no perché anche fa da R.S. Vango ora. Oh. Ciao Marcian, tutto a posto, tutto a posto. Sì, Luxary è bellissimo. Tutto a posto. Anche tu sei un allenatore, vero? No. Lui è il più pietario. Stavo da questa gang di... Darren Tinklin, tu puoi tol. Reazioni che farei io. Va bene, allora l'incinirisco. No, 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 no. Bambam, 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 bambam. Bambam, bambam. Grazie a tutti LOL Sono leggermente over livellato Beh sì Ma ripeto In realtà non è che ho fatto niente di particolare Ho semplicemente appuntando tutti Ma ormai over livelli È una cosa che mi fa anche abbastanza incazzare a dire la verità Perché in una totale onestà non dovrebbe succedere Almeno potevano non mettere le meccaniche dell'amicizia Vogliono statistiche Perché in una zona resistono un po' tutti i crit L'amicizia prende il 20% Oh eccolo qua Vediamo in tutte le zone dove c'è un albero C'è almeno una giara offoni Almeno così erano originale Infatti anche qua è così Quindi in teoria adesso Allora qua In questi remake Le MN non hanno senso Non hanno totalmente senso Non hanno senso Non hanno proprio senso Perché Allora Adesso vi spiegherò anche il perché ha design questa cosa qua Perché hanno letteralmente zero senso a design Allora Io inizio il gioco E vedo una serie di ostacoli Che sono stati bloccati da una serie di oggetti Di Di Cioè Vedere una serie di percorsi Che sono stati bloccati da una serie di ostacoli Ok In passato Perché esisteva sta cosa A Ti bloccava la progressione B Richiedeva che tu in team avevi qualcuno Che poteva Farti fare backtrack Ora no Quindi In primis Dopo che tu hai preso Quella determinata MN Praticamente Se dopo mi metti Qualsiasi ostacolo Mi stai solamente facendo fare Dei click in più E basta Cioè La cosa che stai tenendo È che io sto premendo più volte i pulsanti Perché non è che non possono sbloccare quella zona lì Io ho già sbloccato tutti i due percorsi Quindi il fatto che Lì c'è uno Cioè Anzi dirò di più Metticelo magari all'inizio Però non farlo respawnare Non farlo respawnare l'alberello Perché io una volta che l'ho rotto Una volta che l'ho rotto Non è che poi Ah vabbè ma se poi posi il pokemon Bla 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 No Io ce l'ho permanente Ce l'ho per sempre Perché non devo averlo nel party Non devo averlo nel party Allora che senso ha Ok mi ha limitato la progressione prima E mi ha detto Ok adesso devi prenderti la medaglia Bene Ma dopo questo Dopo quel passaggio lì Ha finito la sua funzionalità Non serve più a niente Non serve Quindi Le MN che non Cioè Ormai se hanno deciso di rendere la meccanica deprecata Deprecassero di tutta la meccanica Del tutto intendo E basta Sì Io volevo Prendere Mistplate Ok Non so se capite quello che volevo dire ragazzi Cioè che cosa voglio dire No non devi nemmeno insegnarla esatto Non devi nemmeno insegnarla Cioè ce l'hai La sblocchi Fine Quindi mi stai solo facendo premere Click in più Ma vabbè questo è un remake Quindi magari ci può stare In parte Però Cioè Se vogliono deprecare la meccanica Deprecassero la meccanica Questo è quello che intendo dire Capito? Ma mi sa che non è Non è stata una buona idea No io vorrei la stessa difficoltà Di pokemon nero e bianco 2 Quando impostavi la difficoltà difficile Quella secondo me È la difficoltà che dovrebbe avere Ma perché Il fatto è che Difficile è sempre relativo Perché Ok è difficile rispetto a che cosa? Capito? Questo è quello che intendo dire È difficile rispetto a che? È difficile rispetto a Cioè noi Se noi potevamo giocare In passato Giochi senza che Non ci dicevano A Cioè non dicevi C'erano Zero Indicazioni E dico Zero Indicazioni Stavo per cadere da Dalla serie Se noi potevamo giocare In giochi dove c'erano Letteralmente Zero Indicazioni Io credo fermamente Che anche i bambini De verso Possono guardare Perché semmai Devo diventare Una specie più intelligente Però è una specie più deficiente Quindi Data questa cosa Data questa cosa Io infatti Non capisco La necessità di far spegnere Il cervello alle persone Questa qua è una cosa che A design la capisco Perché ovviamente Ho studiato queste cose qua Psicologia Però davvero È una cosa che non sopporto Cioè Personalmente parlando Io so Bisogna trattare i bambini Il fatto che bisogna trattare I bambini O comunque I giocatori Come degli idioti È davvero qualcosa che È quasi ridicolo Cioè Svanito Sì Per renderli Non è per renderli Viabili ai bambini Ma è per renderli Viabili ai bambini Senza che i bambini Si Senza che i bambini Si sforzino Perché attenzione Noi Che eravamo bambini Li abbiamo giocati Questi giochi Ok Molto più difficili Anche Ok E noi Li abbiamo giocati Questi giochi Questo è chiaro Si ha resistito Ha resistito Ecco perché Faccio più male Con cross poison Comunque Si ma appunto Cioè È che La differenza principale La differenza È che appunto Non fanno nemmeno Quel minimo Liar di sforzo È che appunto Grazie a tutti. A parte che il competitivo di Pokémon è totalmente inaccessibile a un bambino, è probabilmente inaccessibile anche a molti adolescenti. Tra il tempo che devi dedicarci, la conoscenza che devi comunque avere, i soldi per i viaggi, e poi è complesso, è difficile. Cioè a quel livello lì, quando quello lì passa ad essere un gioco, cioè la campagna è semplice, la campagna per bambini, per tutti quanti, il competitivo no. No, perché il fatto è quello che quando passi da passare da un PvE a un PvP, e iniziamo a parlare di competitivo, lì il gioco non sta cercando di farti vincere, perché i giochi sono pensati comunque per essere tutti vincibili. Ok, giustamente. Tu stai, il gioco diventa uno strumento in mano al giocatore, ok? Essendo uno strumento, il gioco, è chiaro che altri giocatori con lo stesso strumento proveranno a fare la stessa cosa con te, e lì si gioca armi pari. E lì poi entra la conoscenza, il tempo da dedicare. Ma io su quello lì sono un fermo sostenitore, cioè gli sport qualsiasi non sono... Cioè quando iniziamo a parlare di sport o scene competitive, ma nemmeno competitive, anche semi-competitive, ok? Anche il ragazzo che è semplicemente... Un ragazzo o la ragazza che vuole... Che gioca hardcore online... Che ne so, le... Qualsiasi cosa, intanto. Può essere il PvP di Dark Souls, può essere lo speedrunning in Monster Hunter, può essere qualsiasi cosa. Il competitivo di Pokémon nelle... Come si dice? Nelle leghe... Nelle... Online, ok? Semplicemente. Questa roba... Sì, c'è il senso che quando quelli lì non sono... Lì il fatto che il gioco è di base, pensato, può essere più così, più così... Cioè se domani esce Barbie, magiche, avventure, però è un Souls-like a un certo punto, e diventa un Souls-like player versus player, anche quello sarebbe un gioco a scorrere. Cioè capito? Nostante quello sarebbe un gioco che non è più così tanto... Capito qual è il discorso? Che quando le cose diventano degli strumenti, poi il resto passa in secondo piano? Che il singolo credono sia competitivo? Il singolo? Bah! Dipende sempre di che gioco stiamo parlando, eh. Single player, tu intendo. Hai! Guarda qui! Guarda qui! Guarda qui! Ok Io Gheridos! Vabbè però Gheridos prende 4 per da... Gheridos è imploso perché prende 4 per da... da Electro... Ma come niente più Live di Monster Hunter? Non ci stavamo Live di Monster Hunter, il canale è principalmente quello! Ma questo è molto forte, però... non so... Monster Hunter non c'è niente adesso, letteralmente niente, questo è il problema. Ci sta qualche evento qua e là che hanno fatto uscire adesso su Rise, that's it, purtroppo. Il potere solo da bioggia, stab, non è che 100 gola di... Probabilmente anche se era tipo livello 80 sarebbe morto, no? Io l'ho stentano fatto Chiaramente Pieno di bonita comunque qua Ora Piano Ah non c'è strave lol Vai Juber, va Megarequaza Simulator Volevi dire Fata da Juber, be like Megarequaza versus Megarequaza Megarequaza E' lo shopping intensivo Shopping intensivo compulsivo like Gogarequaza Counter pochi che c'ho Che roba Ah il contatore ok Ok Questo c'ha proteine Blablabla Tacco X Difesa X Blablabla 2600 Praticamente The Doss U-Turn Force Swipe Rest Protect Protect Allora questo qua E quello dovrò fare un po' con Force Swipe Per stare a portare C'è l'MT? What? C'è l'MT per esperanza spada? Ok Ok Da quando? No c'è lo posso ricomprare flash menuata? E poi c'è un'altra Fire Blast Thunder Blizz Focus Blast Frame Trower Thunderbolt Stai sb- Ah mo le vendono Ok Buono S-Beam Solar Beam Psychic Dazzling Glimm Zero Borgi Game Parte Ok Ok allora Già adesso La cosa va un po' meglio Perché mi stavo già seriamente preoccupando Un po' meglio E farci la palestra Loth No, no, dai Non sono così stronzo Anche perché io tengo Appunto gli switch Che non puoi switchare Tra un Pokémon e l'altro Perché altrimenti Altrimenti sarebbe del tutto Illegace Hyper Beam perde L'unica cosa che lo rende Scarzo Sul serio? Grazie Grazie Sì, no, ma Mo' insegno Roba utile A Pokémon utili Il piano è quello Allora Ah, yes Di un nuovo in realtà Sono indeciso Sono indeciso se insegnarlo A Gastodon Oppure a Oppure a Swablu Perché in realtà In entrambi i casi Mi fa coverage Sia lo insegno a lui Sia lo insegno a Swablu Perché nel suo caso Però Swablu L'avevo fa coverage Vabbè 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 La storia principale La storia principale Penso che l'unica corretta Che l'unica corretta Ce l'abbia Crobat Che ha davanti Che ha davanti Surd esse Che ha davanti Sì Minchia i soldi veri ci vogliono Per determinate cose Ah ma tutto insieme Non posso metterlo a pezzi Vai Giustamente la giacca È giusto che la giacca di pelle costi Mi infinità Momento di spedere i soldi Tipo sì vabbè 3.000 3.000 90.000 120.000 Zenni Quello che è poche monete Quello che è Un milione di monete Devo essere Devo conservare i soldi 400.000 Soldi Ma tu no Immagina la cassiera No lì Se questa fosse Tipo la In real life Arriva una ragazzina Di 10 anni No da te E dice Ah vorrei prendere questa camicia Ma ragazzina Costa Costa Infiniti milioni di euro Gli sbatti 120k Lì Si si Gli sbatti Proprio lì Gli sbatti Tutti stropicciati Dalle battaglie Che le ha rubate Altre ragazzine E ragazzini O Lucas Tipo lotta Ma Simpatici Ti faccio il culo Tipo Ti faccio il culo Tipo 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 Sì, certo È la ragione per cui non sono tutti la stessa maia Perché in questi prezzi, cioè, collina In quarta gen, sì Cioè, le dà tinta Questa anima, era anima da te Noi ti combatto apposta Io vengo da te, io le affronto di faccia Le situazioni Sì, tipo, Golbat ha i trucchi Contro questa palestra, praticamente Sì, sì . 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 intelligenza artificiale perché lei ha scelto il curirò di uno è come palestra c'è il lucario in questa palestra se non sbaglio ma anche lui mega sì peccato che non l'hanno riportato perché si dice questo questo è un peccato ah beh questo in realtà è un puzzle sblocco la shortcut e poi dicono che pokemon non è il primo souls like è ovvio non 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 Ma la tuttina te l'hanno data quelli della palestra? No, l'ho comprata Ho speso 45.000 carte Mi sono andato dall'adizio allo shop e ho fatto Tiè Sì, mi servirò come un livello Almeno one shot C'ha focus blast anche quel lucario Sto pensando cosa Di quel lucario Perché non ricordo l'intero most Ricordo che ha focus blast Ah, probabilmente c'ha Mach punch Non ricordo di precisa Fai un air roll e buttalo giù Eh no, è appunto focus blast Forza sfera è focus blast No, è vero, hai ragione, hai ragione, hai ragione, scusami Forza sfera, forza sfera, sì sì sì, mi sono confuso un attimo No, no, non voglio saperlo, non voglio saperlo, se me lo sono dimenticato me lo sono dimenticato è colpa mia No, ho fatto absorb Ops Bullcap molto forte come mossa Molto sottovalutata anche No, ho fatto Grazie a tutti 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 Mi porta combi Grazie a tutti Vedo Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Nice Grazie a tutti 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 Notare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Così Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per questo Grazie a tutti 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 Oh no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Su Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forse Grazie a tutti 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 Meryl Grazie a tutti 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 Mamma mia Grazie a tutti 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 Perfetto Grazie a tutti Andiamo Vediamoci Wow Grazie a tutti 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 Onyx Grazie a tutti Chissà Grazie a tutti Lo sto scherzare E 25 di 40 Adesso metto castro non con me E bronzo Tazzo ha flinciato Ah non mi dispiacerebbe manco avere lo so bronzo dal 35 Perché sta più vicino all'evoluzione del normale Safeguard Bella ice Sì probabilmente mi troverei ancora qua Ancora per almeno 2-3 ore Forse no Però un'oretta per poi forse Gaccia Stanno abusando questo Ok un Graveler lo tengo perché magari lo trade online Magari la gente lo vuole Allora switch metto gastrodon Spero in guts Cazzo 50% Tutto distruzione Boom Aaaaaaah Aaaaaah 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 I danni Ma prima ho visto Forse Forse posso accedere ai dungeon di livello inferiore Solo quando ho finito questi Non lo so Sono curioso Per il 25 su 40 Forse faceva riferimento a Ehm Il numero di cose che ho trovato Oh Ah io sul DS facevo così eh Smartellavo Smartellavo Poi cosa trovavo Trovavo Cosa non trovavo Faccio Perché è totalmente random Sicuramente si può tirare fuori Una formula matematica Per la quale La chance viene massimizzata E c'è sicuramente un modo di ottimizzare i colpi Ehm Che è oltretutto Oltretutto Perché è uguale uguale a quello che era sul DS Io l'avevo anche trovata questa cosa L'avevo anche fatto Ah un trader Get goods Which goods do you want? DM03 Water pools Iron tail Drain punch Oh c'è drain punch anche Ok quindi Mette su give Non posso Ah ti posso dare Ti posso dare I Pedest Pedestall I piedistalli E vengono convertiti Quindi posso comprarli da sopra Perché questa è nuova di funzione Quindi dovrò Dovrò Non studiarmela Non so ma non ho ancora capito cosa servono i Dugtio Dovrò Mi porta Mi so Mi so Mi sua Mi 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 ok oh mi sa che è un everstone quella controlliamo un po' hardstone ok si dà le pokemon roccia per potenziarli comunque il modo migliore è fare diagonali comunque questo qua me lo ricordo perchè me l'ero studiato questa cosa delle diagonali ah perchè è vero più in più siamo e meglio è cazzo ho trovato tutto si ok ottimo spire s spire s e peles ok e uno raro un box raro ma conviene farli in due oh o meglio esce roba più rara più che altro mi dovrei informare bene questa meccanica di multiplayer perchè il fatto è che la cosa che mi fa ridere perchè quando ero più piccolo no che ovviamente erano usciti questi giochi ero io quello che poi andavo a informare gli altri miei mentre adesso mentre adesso sono io stesso che mi devo andare a informare eh non penso faccio abbastanza colpi purtroppo peccato beh le cose più importanti le ho prese comunque delle statuette mi importa in modo abbastanza relativo in realtà 40 su 40 che succede adesso qualcuno incerto lo sa 40 su 40 perché c'è zulti mi ricordavo che mi ricordavo che c'erano anche delle pietre abbastanza rare che c'erano che c'erano che c'erano Sono tornato a zero Che vuol dire Ah, fighissima sta grotta Misdreavus Sarò a livello altissimo Sto misdreavus Era tipo al 37 36, ci sono quasi Muddy Water Potrebbe anche uccidere E' un tank gigante E' bellissima sta inizia Accuracy Fall Yes Restoro un po' di HP Perché non ci fa mai male Gaston sembra un po' preoccupato Fa bene Water Pulse Lo dovrebbe chiudere Ex Mazzamno Mennomale che c'ho Il bell Altrimenti ora esplode Bella Gommel Ma fa più male Muddy Water Allora Ok, mi esploderà Se non switcho Quindi Sbucciamo Immediatamente Sbucciamo E Sto pensando a cosa giocarmi Allora Sicuramente proverà Qua roba di incantesimi Se metto Crobat Crobat dovrebbe outspeed Darlo poi il turno dopo Spero di non prendere Troppi danni Molto bello anche Questo suono Comunque Quale sono le rocce Di Dark Souls Ovviamente No Adesso esce Un goal Cazzo Così Così Lo battono Solo per Solo per Ah Guarda quanto sto meglio Moco ho preso Una bella tazza di letto E cattiamo Ne prendo un'altra Ovviamente Spy fa dovante Quando cucino Fa le cose Ne fa sempre Molto di più Del necessario Sono più veloce Io Di quel bronzer Del cazzo In realtà Non ero così Convito Che ero più veloce Ho gridato E' onest Voilà Cratesa Buonasera Che super efficace In base alla cava Dovrei switchare Il pokemon Da lead In questo caso Perché Comunque Ne approfitterò Per dare Che ho preso La mia decisione Oltretutto Quindi per dare Darò il lead Per ora A Il lead Qui Assegnerò Questa Capsula Toglierò Ho deciso di portare avanti Quexair Quindi Ne approfitterò Di questa decisione Per Spostare Il gastricon Del box Stavo pensando Prima Che in realtà Mi possono tornare Di più Altre cose E Quexair Mi ispira Onestamente Un po' Di più E Mi porterò Su per ora Anche se Comunque Non sono soddisfattissimo Di pokemon Che possiede In questo momento Mi porterò Sopra Dove è Onnita Ecco Ma Con la speranza In realtà Con la speranza Che Non te lo mette Ma vai Lavoro Bello Bene Cratezza Saprete presto Novità Presto Relativamente Tempi di produzione Bene Svega Ma c'è l'home di Dike? No No Che bravo Vado direttamente Con una roba Ampiro Più pesante Vado con una mega Conosce il stesso gioco Yeah Go Go C'è I pokemon Mi gencano Da dietro Questo è davvero Lontano Da essere Il mio Team definitivo Ma molto Lontano Flamme Certo che Si Cotton Guard Cotton Guard Mi pare che non era per niente male Perché Infatti è molto buona E in realtà Io tornerò a questo punto round Che Tanto quando si evolverà in altaria Non userò più Quindi per ora Rimuoverò round Mi metterò un po' Per arrivare lì Ad altaria Poi imparerà Dragudanza Quindi ovviamente Lì ho potuto Ok Questa cava Quello Manchelax No Manchelax Scusa Uno Smutum Si Si dovrebbero essere anche abbastanza rari Ora Credo che Forward Allora Si Allora Lui è alto Però Non credo Io non penso L'ho sciolto con Spark Dai Con Tipsy Con Spark No Si Fuck Cazzo Questo era raro Merda 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 Rara Merda Rara Cazzo Cioè Era un 36 Vabbè Dicevo Qua le collisioni Non son perfette Si vede Potevano lavorare Un pelo Di più Sui Gollite Però ci sta Eccolo Eccolo Ho trovato Penso che aumenti la rarità delle cose trovate Quello lì E' uguale nei dungeon Perché adesso il contatore qua dentro è diverso No In realtà no Ok In questa zona Il lead deve essere Coexire Beh oddio Il lead Coexire a questo livello qua La vedo un po' brutta Però Si si prova Non deve essere È uno dei miei riversi Popotas Sandstream Allora Si perché non ha Un cazzo di mosse Acqua Ho creduto Però c'è un mazzetto Un mazzetto Che cala la La speed In realtà posso fare pure un bel ion Che non serve manco Malissimo Come idea Che cosi Non so se può pestone in braccio di più Allora per Che cosa fai Azzo Accumulo Non buono Allora La cosa è questa Allora Questo è 55 Questo è 80 Anzi 85 80 Slam fa Fa un po' più male Anche se mi stalla Questo cazzo Non è vero Ho fatto male i conti La sandstorm Non aumenta i danni Però Della nostra terra Scusami tanto È 55 Per 1 E 5 Fa È 55 Più 25 75 Forse Più o meno uguale Allora Forse Perché questo C'ha più special Attacco Ok Cosa ne pensi Questi due Pochetto Monsta Allora Questi sono molto belli L'unico gioco L'unica cosa che non mi piace È come hanno gestito Il tono di esperienza No In realtà Non è che Non ho calcolato male È che lui ha fatto accumulo Giustamente anche Direi A questo punto Io proverei a catturarlo In realtà Perché comunque È un nuovo scambio sicuro Quindi Intanto lo prendiamo Ah come È bella Ok Ok L'hai scelto 2 Piccolino Piccolino Sto dungeon That時候 Wildonix Wildonix Scritch Riccio Difesa A-2 Non mi fa piacere Ho anche irritato, e questo mi assicura solo che il prossimo attacco lo faccio io, ma è vero, ecco era comunque più duro che lui. E' di smash, beh comunque ce l'ho un po' di sustento perché tanto dovrei rigenerarmi a cappi con il ruscio. Il magius è quasi livellato. Può andare più sopra di là, magari non l'ho visto bene. Sì, infatti non l'avevo controllato bene. Piece of Carpool, ok. Ok. Oh cavolo. Ma dove si uscirà qua? Continuiamo a esplorare il dungeon. Quanti sono? Due? Quanti sono tutte queste rocce, un cancro vero, annaccio al male. Questa è la costruzione. Undici. Corretto? Dieci comunque. Allora, non sto capendo in base a cosa. Questa è una volta. Lì mi indica che c'è un altro giocatore, no? Proviamo a... ... ... oh questo è grosso eh trovato ma cos'è quell'altro? è un coccio vero? redshard glaceon quindi è il dungeon questo è un rapidash addirittura se lo riesco a catturare posso mettermi direttamente questo no è sempre un tono l'avevo visto rapidash stone speed fell mi ristoro così non mi uccide e sustain flame blue vabbè che questa non mi fa niente non mi fa niente sto grande cazzo ma grittato eh porca troia ho meno due se è ancora più veloce lui punto interrogativo io non sono così convinto che mi attenzia l'altro volto ma per spin non lo dà lo dà lo posso tankare sì beh talmente ridicolo no mi stanno incastrando secondo me le collisioni l'hanno fatte male a posta così di incastri cioè o meglio l'hanno fatte in modo tale che non è facile di scendermi non lo giustifico qualmente per me per me non non so far raga ah no ah you couldn't get away fantastico eeeh non significa che ho to fight credo o ho to coppato allora vabbè vabbè ho più 3 di axe subito proprio sto tipo a meno 6 mi prendo con qualsiasi cosa e esplodo Oh, si, grazie! La dragon è però. Gribbo. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Oh! Scriccio. Non sarebbe male, dicevo. Vabbè, ex. Via. E di quello che dico è che, cioè, non necessariamente, cioè, non è facile districarsi in questi dungeon, però il fatto è che il livello di difficoltà della mainline è molto più basso rispetto a questo. And I wonder why, cioè, perché? Perché avere così tanta distensione? Cioè, ci sta, eh? Questo è secondario, la mainline è principale, ok? Quindi dici che qua puoi spingere di più, perché qua è difficile, ragazzi, cioè... Io ho l'altissimo rispetto... Cioè, ho molta più difficoltà a fare fuori, a districarmi qua dentro che a... Come dire, che ha a fare fuori... Che è fuori pure i capi palestra. Ok. Ho già trovato due cose. Vabbè, 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 vabbè. Non ho presa quella verde, porca troia. Mancava. Che dico, gente, che sono? Vabbè. 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 Glider, leadbox! Glider, leadbox! Glider, leadbox! Glider, leadbox! Glider, leadbox! Merda, che cazzo di sfiga, ragazzi! Porca troia, che sfiga! Uno, bene! Uno, bene! Ah, cioè tu puoi moddarti! È geniale sta cosa! Adesso, allora hanno perfettamente senso! Cioè, le statue non sono solo per bellezza! Tu puoi attualmente moddare... Cioè, puoi moddare... Modificare... Li rate delle cave! Ah! E allora sì! Ok, ok, ok! Minchia, ok! Allora è interessante anche! Cazzo! Come cazzo si fanno le basi segrete, però? Perché avverrà forza segreta? Come su... ...in passato! Ponita! Sei il re... I ponita sono i re dei critical strac... Sono i re dei critical strac... Cioè, sono ridicoli! Sono in seto totalmente ridicoli! Ma che cazzo? E' bevibile! Ma togli... Togli sto bagliaccio dalla mia vista! Sì, ho trovato un domlin... ...l'ho trovato! Sì, no! No, ma c'è RGW questo ponio! L'abilità del cazzo! Un gioco per questo lo dovrei cambiare! Provato! Ce ne sono quattro? Beh, qui lo vedo improbabile! Ah, sui... Sono aumentano raccogliendo la roba dei diglett, lì! Che cazzo? Chissà cosa... Mi pare non sono dei kirin che non ci hanno creduto abbastanza... E' vero, 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 corretto, onesto! E' assolutamente così! Così vende altre cose... O vede le stesse cose... O vede le stesse cose... Vende le altre cose... No, vende le stesse cose... Vende le stesse cose... Vende le stesse cose... E l'hanno... Sono riusciti a migliorarla... Cioè, questo era... Questo è... Sì! E poi adesso è il multiplayer online puro che ovviamente... Lo renda ancora meglio di prima, chiaramente... Sono curioso di alcuni comandi che non so... Allora, di quei cosi lì sono sicuro che è scerato su... È scerato attraverso tutti quelli dell'underground, quindi... Swab blue... Se io passi lì su di me non ce l'ho... Quattro! Forse dovrei... Forse dovrei andare nella città quella lì dove ho trovato... Dove il tizio mi ha dato il kit... Magari c'è qualcosa lì che mi dirà per fare basi, mi da lui forza segreta... Quattro! 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 Ok... Oh! Recovery! Nice Ok Per chi altro deve recuperare? Io In questo momento Quindi Qua sarei di nuovo nel lead Quindi Alla salute Recovery Cappellate Sempre buono A parte sì Save the game Cacchio non salvo da un botto Li temo Immagino che i Dagi Trio Mi diano tre punti For the memes E buonasera E buonasera Che ci Bene Manche ma Coop No ma Ma Coop Forza No Non c'avrà l'abilità Quella che prende A prescindere anche gli spec Ma se sopravvive Provo la cattura Anche perché ho critato LoL Ok Uno lì sopra Tut' Un po' Perché sono un cuglione È volante Non lo prenderò mai Ok Allora Quando si sveglia Farà un vero incrocio Ne uccide tre di quei cosi Ma se sopravvive Vorrà dire che si meriterà la mia cattura No guard, sì Pena si sveglia Pena si sveglia Preparati proprio A mangiartilo qua Boom Infatti non sei avvissuto Non sei degno, mi dispiace Posso fare una colla? Quello è un goalbat Diretto però Aspetta Perché se non è diventata immediata Perché quest'area È diventata spaventosamente più difficile Di botto Che vuol dire? Ehi This is illegal No 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 A2 Click on me Click on me No 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vedete comunque quel cretino Non so chiunque Quel cretino mi sta ignorando Non so chiunque 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 Lo sniper Mi chiamano Lo sniper Non so chiunque Ma ciunque Le aree lì Mi stanno livellando davanti Non capisco Forse sto capendo Invece Quel 33 su 40 Più è alto Più nelle aree Spano una roba forte E trovi cose rare anche Ecco perché sto trovando Vabbè in parte perché Mi sto accollando A questo dizio E quindi Sto Piccolando Nelle stesse zone Su 2 E quindi prendiamo Più roba Se solo mi selezionasse Potremmo fare Queste qua Quando ci stanno pari Di questo genere qua Che escono tutta roccia E E' totalmente A culo perché Devi martellare Talmente tante volte Prima di iniziare A vedere qualcosa Che è difficilissima Cazzo Una di una diagonale Non c'è niente Un po' tardi chances Oh Ma 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 siamo seri seri Ma che cazzo De minima C'è che cazzo Vabbè Questa c'è detto di Ovviamente Per esclusione Stavano qui Però che cazzo De sfiga Una Una Treinta Nove Sì Ah Siamo arrivati qua Forse no Non overk Forse bonus Dura un po' E poi se ne va Vediamo un po' Sono pronto Sono preso Andare nel dungeon Quello grosso Mentre siamo a Mentre siamo Pompati così Sembra Any generic C'è un wingul Interessante Terrier candy Ok C'è sta qualche meccanica In più Quindi che Dobbiamo Dobbiamo ancora Comprendere Fino alla fine Sono comunque Trovingula Al 150 No Al 300 100 Dira Altra Non Qua immagino che possono dar Se ce l'ho il coso Se ce l'ho 7 Ma non ho 7 Oh a te cercavo però A te cercavo e come? Krogank A te ti cercavo Yes Wager Pure lui è via l'attacco per tutto l'istinto Ok Yon Posi un gel Ok 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 Ok, i diront app. E' uno Sniper! C'è io! Ma ormai che ci attacco in uno, non ho traduto. Sing! Vai! Ciao, Sir Giraffa! E' molto accurato l'originale. Hanno espanso alcune cose che sono state molto più, tipo queste delle caverne hanno espanso tutta la meccanica, è bellissimo. Mi piace un botto. L'unica cosa che non mi piace è che questo sistema ha il contenuto esperienza che è sempre attivo e non puoi disattivarlo, essenzialmente. Quindi tutti i Pokemon guadagnano costantemente esperienza sempre dai tuoi parti. Questo è giustamente anche il fatto che puoi accedere al box da ovunque. Diciamo che trivializza un po' le difficoltà di gioco. Oh, Quex finalmente! Allora, sì. Un slam, vediamo tutto il slam. Quindi grazie mille Ponida, sei stato inutile, addi, switch di immediatamente con Krogna, con Krogun. Torniamo in superficie, andiamo avanti, voglio capire un attimo questa cosa delle basi segrete perché è super importante, a quanto pare. Qua dell'Underground, cioè adesso la base segreta non è una semplice base segreta, quindi. Allora, a me la roba della base segreta, cazzo l'ho notata. Aiutatemi un attimo, raga, era una città. Pokémon Nursery, era qua, vedo. Staraptor che non ho, ricordiamo, mi porta lì. Devo capire questa cosa di come fa le basi segrete sotto perché non l'ho capita. Allora, a me la roba della base segreta, cazzo lì, cazzo lì, cazzo lì, cazzo lì, cazzo lì, cazzo lì. No, è giusto questo qua, devo... Immagino che una volta al giorno posso andare da lui se ho un determinato Pokémon metà delle Pokéball in ricompensa. Era qui che... O mi sto sbagliando, ragazzi? Il vecchietto. Forse, forse no. No, quel da... Ma prima? Evopoli? In italiano, in inglese? Ok, comunque, vediamola. Ma i Poking li ho sbloccati dopo. Underground Mensa Eterna City. Eccola qua, qua. Vicino al negozio di bici, sì, sì. Digger di Rilempa. Dig in balls of the underground to unearth the hidden things. The treasure you find will go straight into your bag. Sphere's a special gem to you and change for goods down there. Now what should I send you next? It's right, I will teach you how to make your secret... Ah, eccolo qua. Next time it is make a... Ok, lo faccio. Volo prima da un'altra parte, semplicemente perché magari in questa parte qua ancora non ho... Vado proprio qua, vado a twin... Vado a twin lit, sì. Semplicemente perché non ho... Il soldo strapped perché non ho. Lo so, ma tipo... Tipo, come funziona? In questo modo, tipo, hai... Poi fai un fischio fortissimo. Uno staraptor? Dovrebbe essere abbastanza spaventosa questa cosa. È pericoloso, cioè, ma... Ehm... Inferno. Tipo, è... E ragazzi, è pericolosissima questa cosa. A caso uno staraptor arriva? Sì. Sì. Ok, 0 di 40. Sì. Ok. Play statue. Sì. Come... Perché dovrei vedere, non c'è tipo l'effetto o qualcosa. Non c'è tipo l'effetto o qualcosa. Oh, non c'è tipo l'effetto? Sì. Ah. Sì. Grazie a tutti. Ok, allora forse i piedistalli migliorano? Ah, ne ho due di queste, dottore. Ok, me le dovrò studiare. No, non ho la meccanica di gioco, me la devo mettere a studiare per bene. Go, get that! Quanto... Ho veduto soddisfazione fare gli incastri. Ehm... Ho veduto soddisfazione fare gli incastri. Lucario, di nuovo. Lucario e poi c'è tutto... Poi c'è la stato da... Posso anche ruotarle. Sì. Minchia, è il Tetris! Ragazzi, è il Tetris, è così. Da uno non c'è più... Da uno? Qualcosa da uno? Avanza? No. Allora... Allora va bene così. Sera, e l'inventario diventa... Io penso però che non valga manco così, lo sai. Sì. Vedi, per esempio, in realtà... Queste devono essere solo dello stesso tipo. Perché altrimenti non c'è senso. Nel mio caso dovrei fare tipo così, più altaria. E basta. Questa cosa è complicata, ragazzi. Cioè, è una sottomeccanica abbastanza... Abbastanza interessante. E poi volevo vedere la meccanica, quella che dicevano loro, del drill. Quindi, in realtà, le statue influenzano... Oh, questa palosa non è andata. Influenzano gli spawn rate. Quindi io dovrei tentare di... Tu dighi, tu dighi, prendi le statue. Piazzi le statue. Le statue aumentano il rate. Il rate anche dei Pokémon shiny, oltretutto. Perché ci stanno le statue shiny. Quindi... Il grind! Minchia, i minatori devi... Porca troia, ragazzi. Cioè, davvero... Che deve essere il minatore. Ti metti lì le ore a fare il mine. Ok, vabbè. Comunque adesso l'ho capito, questa parte qua. Super interessante, oltretutto. Fichissimo. Allora. Torniamo su. Perché voglio vedere che cosa altro mi ha sbloodato. Ma perché in realtà... Questo qua, amici, di 3, da le cose. Ok, le plates... Storni evoluzionarie. Ok. Ovviamente, no, ci siamo, poi torniamo su. Cioè, letteralmente, davvero, puoi passarci le giornate. Tra questo e il Rhythm Game, il nuovo contest che si crea il Rhythm Game, praticamente. Oh, forse. Ah, quasi. Zero regole. Vabbè, let's go. Andiamo... Pericolosissimo. Arrivano Staraptor. Tu vai dal ragazzino. Dio, vai così. Arrivano Staraptor dall'alto. Grazie mille per il follow, Simo. Quick bolts. Ok. Dive bolts. We'll need to put in another Digger Drill. You can trade Spheres for one Endgame now. Close the game, please. No. No. No worry. You can play Statists with your own Secret Base in FIFA. For me, Star. You have to decorate your Secret Base, set up Statists in there as you like. Lo fatto? Ah, you managed to decorate. Ok. Well done. This is your reward. Square Pedestal XS. Ok. Ah, you stuck out in the end. This will be my final test. Underground attracts a lot of people. You are not the only one down there. Ok. Your Secret Base on their own. Your final test is to find someone else's Secret Base. When you do make sure you look inside. Ok. Allora, considerando che la psicologia moderna e le chance nei videogiochi, qui c'è il tutorial delle Secret Base. La maggior parte delle Secret Base saranno vicino qui. Quindi io scenderò qui. E posso dire quasi con certezza che troverò almeno una Secret Base. In questo punto. Esattamente qui. Ah, yes. In questo punto preciso. Qui. Shin Megavit in 6.5 lo proverai. Oddio mio. Aspetta. 6.5. Eh, non lo so. Non lo so. Ne ho ancora uno shiny. Ah, si sta ancora connettendo quindi dovrò aspettare. Mentre aspetto mi faccio un giretto in questo dungeon. Poi, poi, va bene indietro. Vediamo un po' che c'è. Golbat, Magnemite. Potut. Graveler. Comunque sono sempre gli stessi, eh. Più o meno. Purtroppo. Aggiungerei. C'è la sensazione che c'è comunque qualcosa che ci manca. Ragazzi. Per la psicologia non sbaglia mai. Ecco la base segreta. Il game design. Già lo sapete, ovviamente. Ve l'avevo detto, ve l'avrei garantito. Ragazzi, ve l'avevo chiamatissima. Ve l'avevo chiamatissima che sarebbe successo questa cosa. Chiamatissima. Non è blind, certo. Ve l'avevo chiamata, ragazzi. Ve l'avevo detto. Sì o sì che ci sarebbe stato il 100% di possibilità. In realtà è tutto pre-registrato. A voi sembra che questa qua è l'ottava ora di live? Però no, in realtà è tutto pre-registrato. Ho avuto un early access di quattro mesi. Questa roba di quattro mesi qua. È tutta organizzata. Ok. Questa roba di quattro mesi. Questa roba di quattro mesi. Mi si riuscita a fare. You can even get power from someone else's secret base. Don't be shy, make the power of status yours. Ok. Ok, poi, rispetta. Forse c'è qualcos'altro come dividere. Mamma more thing. Ah, ok. Have you seen the lights with different colors at a spot where you can dig for treasure? Of course. At this spot you can dig into walls more than you could near the usual yellow night. Ok. It seems you can find different colored lights when you communicate with other... Ok. Ok, devo giocare in multiplayer e devo diggare con qualcuno. Ah no, vabbè, l'ho già fatto. In realtà. Ok. Sì, sì, sì. Le mix sono bellissime. Allora, torniamo... Torniamo un attimo a... Torniamo rapidamente qua un attimo. Voglio vedere... Gli effetti delle statue. Se cambia qualcosa. Sì, comunque ragazzi, consiglio spassionatissimo per i giocatori Switch. Connettetela con lo Switch via cavo, ragazzi. Connettetela col cavo. Cambia tutto, cambia. Cambia tutto, cambia tutto. яз Non è cambiato niente. Però sono più fighe, quindi vabbè, così. Sì, sì. Ragazzi, è davvero spassionatissimo. È infinitamente meglio. Quindi, in realtà, bisognerebbe sempre andare qua, amici. Cioè, sta roba qua in multiplayer è infinitamente, indescrivibilmente, illimitatamente meglio rispetto a farla da solo. Già solo per il fatto che puoi diggare di più, di base. Ho visto che ogni volta che fai uno, puoi diggare, altri due possono diggare. Quindi, se sei in tre, penso che sia... Oh, vedi? Ma, poi, io una cosa, no? Io non ho capito, se io faccio così, no? Se io faccio così, la gente può interagire con me? Cioè, è un tasto interaccio, questo qui. Voglio aspettare a vedere se... Sì, perché la Switch non è nemmeno il migliore dei ricettori. Quindi, consiglio spassionato, docked, o LAN, migliore cosa. Serio, serio, eh. So che è una rottura di balle, i cavi e le cose, lo so, raga, però il Wi-Fi ancora non c'è arrivata, soprattutto in Italia, ancora non c'è arrivata la potenza di poterlo fa... Connessione perfetta ovunque, senza disturbo, il cavo LAN, arriva, prende, arriva, tac. Potenza, 800 MB di download, quello che vedeva arrivare. Eh, può cliccare su di me o no? No, per se no. Penso che sia solo un... Un ricettore. Ok, tipo, per indicare lo status delle cose. E di me, perché? Come mi fa aiutare? No, palesemente è lì, quindi, è sbagliato. Ok, tipo, per indicare lo status delle cose. Vedi, perché adesso cooperiamo? Cioè, non sto capendo sta cosa. Vedi, perché, perché, perché in tutti gli altri casi non ho avuto il multiplayer sincrono e adesso ho il multiplayer sincrono? Che cosa è cambiato rispetto a prima? Che cosa è cambiato? Ok. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato? Ok, app istoppizzata, aspritto a Non so Hezi characters è cambiato. Ok. Comunque nessuno dei giocatori che ho trovato sta drippando i costumi corretti dei propri personaggi. Ancora vedo gente che è vengeto con l'outfit base. Ragazzi, non ci siamo. Dovete drippare. Mi ha davvero fatto... Exodia! Oblue it! Non mi ricordo ma perché li vado su hub e si evolve. Non va bene per niente, lol. Eh no, che non va bene per niente. Bisogna drippare. Questa è drippare. Poche drippare diamante e perla. Con il main character così, con i gioielli, le vite preziosi, la catena d'oro. In realtà, in realtà, in realtà, il vero spirito di questo gioco è questo. L'axor è dopo. Ah, cazzo, è un po' tuato. Parca tu, è purpurine. Ah no, ah no, la... A me è perché c'è la friendship al massimo. Quindi adesso con il potere dell'amore e dell'amicizia sblocca l'ultra istinto. Ma infatti, allora, a me piaceva... Mi piace... Eh, sono più i costumi, però mi dispiace che non ci sia la completa. Eh, comunque ci stanno un sacco di zone. E anche tante zone che non si sono viste. Bene, adesso abbiamo Dragon Up più uno. Ora, se io probabilmente trovo le cose... È molto complesso come sistema. Devo studiarmelo molto bene. Penso che farò... Penso che farò live tipo otto ore, digging only. Solo, solo diggando, tipo... Ah, sì. La mia cena è già pronta, quindi devo solo scaldarla. Così posso proseguire la live stream oltre... Il limite del Super Saiyan. Allora, già siamo su per il limite del Super Saiyan. Perché siamo appena otto ore e venti in live, quindi... Ah... Poi me lo esplorerò tutta per bene. Sono i gioielli da trippare, esatto. Sono i gioielli... È quella, è tutto vero. È... È the drip. Ok, andiamo avanti con la lore. Con la lore... L bò bò. Comunque considerando che hanno riportato molte delle meccaniche e non ho ancora visto il endgame. Già solo con le meccaniche da adesso ci potrei passare 100-200 ore già solo con quello che ho visto. E questo per me è già un successo. Cioè, nel senso che già solo con questa roba qua loro ci hanno guadagnato 200 ore per la gente che vuole. Tra questo, i contest, il grinding delle varie cose, il fatto di... Sono già 200 ore del gioco, ragazzi. Cioè, cazzo. Non hai tempo di esplorarle tutte fino alla fine. Cioè, la main campagna è più semplice, ok. Mi dispiace perché purtroppo a me piacerebbe che la campagna principale fosse un po' più tosta. Non piace quando regalano troppe cose, ecco. È un'opinione, anche lì, ancora lì, però... Come dicevo prima, zona per le bacche, albero. Back it again. Ho detto, ho detto che fanno così. Ho detto, ho detto che fanno così. Scultura Dex, Pokédex, lol. Drip Dex. È come su Pokémon Go, c'è lo Shiny Dex su Pokémon Go, no? Il Drip Dex. Beauty Cindy. Gli Miao? Che livello sei? Dovrebbe essere comunque più basso rispetto alle cave. Ti spacco il curo. Gli Aquatails, ba-ba-bom! E mi curo. Oh no! Dammi soldi veri. Ah, cazzo no, è vero. Dammi soldi veri, niente. Perché adesso... Adesso il lead del gruppo deve essere Crobat. Di nuovo. Ma non voglio che sia Crobat. Fammi vedere un attimo... Che mosse c'hai? Counter. Wagger. Poison Jab. Ok. Che purtroppo, in realtà è un po' un problema. Ma... E poi ci avrà a guadagnare una qualche mussolotta. Vai, tu e il tuo esercito di magica. Invece no, il mio esercito di Geridos. Un gioco d'azzardo appunto. Sì, sì, questo gioco è Peggy 7, Batidenly... E lo sappiamo tutti, in realtà. Che in realtà è Peggy 7, but actually... Dai, ce lo faccio, però con Byte. No, quello puoi. E' un trucco che è diverso. Minchia, grazie del Critical Hit. Adesso partono i trucchi della max amicizia. Che poi... E' i trucchi della max amicizia che poi in multiplayer non funzionano, perché... Per un secondo ho visto Gara Shiny e ho fatto... Ma che cazzo misci? Stavo già a rosicare. Ma che cazzo fa? Porto in ogni cazzo. Eccolo per Geridos. Ma di nuovo c'era un Geridos, Bat. I don't care. In her focus. Miss Geridos, se ti evolvi... Feedback. Lo considero. Allora... Il problema è che Miss Geridos ha 85 di speed. Infatti questa roba qui fa pegare il cazzo. E non ti userò. Sarebbe buono che tipo... Magari se gioco una tossina e una roba del genere... Mi dispiace. Perché l'ho trovata nella mia piedi per tossina? Io lo potrei insegnare. Così poi c'ho X che... Picchia forti. O insonnia... La roba del seco. Al quattro si fanno i tuoi ridi. D'ai ne doli tu si dei frutti di indolino. Sì, allora... Insomma, ok. Are you skeptical of my claim? D'ai... Sì, allora... Tu sei un allenatore? Ah no, serve cose. Serve... Come si dice? Scala roccia. Però climb. Aerial Ace. Ok, Aerial Ace. Io lo inser... Ok, bene. Grazie. Grazie molto. Di solito io Aerial Ace... Se non è un... Questa. Perché è il cutter? Perché è il cutter? A parte che c'è 95 di precisione che il team di fotossica. Però è... È speciale, non è fisica. E' un'area lì, è fisica. Bella zi. Mo' sono risorto già nel ribaltare la svieta. Oh no. Intanto il mio primplastarter probabilmente ormai mi odierà perché non lo uso più. Proviamolo subito a Aerial Ace. Vedo un po' l'animazione qua. Com'è? Bella. Ora Aerial Ace non può mai mancare. Questa è una cosa che mi piace molto bene. Cioè che mi piace molto bene. Che mi piace parecchio. Ed è 60 fisica. 60 è bassino, però non può mai mancare. Fly ci mette due turni, quindi... Potevo insegnare di Fly, ma... No. Tanto comunque... Aerial Ace non è la mia primaria punti di danno. Stabba perché sono volante. Quindi ok. E non è un 60, è un 90. Però è Posen già... Eh Posen è il prossimo. Forse è Posen. Posen è il prossimo. Equitamente è quella che fa danno. Massimo. E' abbibare. E' abbibare. Minchia subito a dirubare i bambini. Immediatamente proprio. Aspetta che... Non ricordo se... Perché di solito sulle spiagge... E fa. Sono tre passi, no? Eh... Sì, non... Non ti ho messo. Grazie mille, ma... Ah, qua incontro... Si rincontro Cynthia. No, 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 no. Sbagliando. Sbagliando. Apprezzo il Regain. Sì, lo conosco. Lo spesso entriendo in Regain. No, 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 no. No, 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 no. I feels. Sto avendo feels no stop, ragazzi. Non so se... Non ero emozionato. Questo gioco mi prefer... È la ragione per cui sto giocando... Non riesco... Non riesco a interrompermi. Minchia, Trick Room. La vedo chiamata prima. Distorto zona. When you pick the fastest Pokémon in the world. Trick Room con la carta del cambio giro. Oh, fuck. You become the very thing you wish to destroy. Certamente. Certo che sì. Quello opportuno. Sì. Un Pokémon a livello 100. Ah, yes, no. Ok. Ok. Anticipescio. Beh, cross poison. Credo cross poison non lo faccio fuori dopo. Oh. Noi, noi, noi Noi, 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 noi Scary Face Guarda, onestamente Onestamente no, preferisco Lear oltretutto Preferisco Lear di parecchio Ok, bronzo sarà un po' un cancro Ah no, non è vero in realtà, perché è un bite I know you could do it La migliore picture è il selettore della lingua Ragazzi Dopo, dopo 666 anni ce l'hanno fatta Tipo, aspetta Ma siamo nel 2021, potremmo mettere Tutte le lingue in un file CSV E poi lasciare al giocatore scegliere Visto che non siamo più region lotte ormai Grazie Nintendo Infatti ho già giocato con dei giocatori giapponesi Nella scorsa live Allora, io non mi... Le lotte, per me le lotte in singolo Le lotte in singolo stanno qui Le lotte in doppio Ok E le lotte in triplo erano ancora oltre Perché le avete rimosse? Erano bellissime le lotte in triplo e rotta a rotazione Almeno a me piacevano Poi ovviamente ho un'opinione personale Ma a me piacevano tantissimo Il titolo Come le megan, sì Cosa ne pensi? Ah Allora I play to earn Ma in realtà In realtà non ho opinioni Come devo dire Opinioni a riguardo particolari Sui play to earn Onestamente Ci sta Cioè Diciamo che La cosa di play to earn È che Sicuramente Ricordatevi che loro Quando ne hanno molto Ripeto Molto vi danno Sempre E non sono così Tanti diversi Da quelli che ormai Sono in triplo game Cioè nel senso È un gioco Dove il giocatore Investe il suo tempo In cambio di soldi Perché attualmente Voi starei dando Il vostro tempo E state ottenendo soldi In ritorno Davo ovviamente L'illusione Che state davvero La guadagnando qualcosa Perché nel momento In cui voi avete fatto Un euro Loro hanno fatto Tipo 20 euro Con la stessa cosa E comunque C'è un rapporto Guadagno vostro Guadagno loro Che è spaventoso Su Cioè Quello che credo è Se vi piace il gioco Bene Altrimenti forse Dovreste spostarvi Sui crypto game Se giocate ai pay to earn Per guadagnare È meglio Che giocate ai pay to earn A Dei crypto game Vi apriete un wallet E investite in quello Che lì Se sapete Investire Lì guadagnate E potete anche Far guadagnare tanto Se ve la sapete Giocare bene Esatto Esatto NFT Se usano sta roba qui Assolutamente sì Ma L'inft Eccetera Sarà Assolutamente Il futuro Non 100% 200% Cioè 200% Sarà una roba Che Sarà una roba Che tutti i giochi Andranno a implementare Sarà del tutto Opzionale E Io però ve lo dico Cioè su giochi di successo Opzionale o no Ma Per libertà finanziaria In futuro E se qualcuno Vuole avere una Cioè Ci si saprà districare In sto mercato Guadagnerà Noi Noi anche in Jamma Ci stiamo muovendo In diversi aspetti Cioè Perché non posso dire niente Ma E Abbiamo fatto degli studi Sul Sul mercato Su queste cose qua Anche Ho fatto il posto io L'abbiamo fatto da tutti E vi possiamo Posso dire che Sì I cripto game Le cripto valute Eccetera Sono assolutamente Il futuro Fino a quando Qualcosa non cambierà Quindi Tecnologie NFT E tutte robe del genere 120 Cioè È troppo sì Per essere no È tipo 99% sì 1% no In questo momento E ripeto Devono muoversi i governi Per impedire sta cosa Vedrete Eh Le mega Così Vanno un sacco di soldi Toxicroak Sì E ho catturato apposta Il croganza di livello alto Sembra che stava arrivando Eccolo qua Eccolo qua Lotta Vedete Non il migliore Di tipi Ma è interessante Dunque Ma hai visto pure Tutti i franchising Marvel si sta spostando Per Su NFT È per dirvi È per dirvi Che comunque È una roba che arriverà Ragazzi Che vi piace o no Bellissima animazione In realtà è un peccato Che non abbiano mai fatto Tanti passi da gigante Perché In realtà Sulle animazioni È tutta Cioè È Sesta generazione Ragazzi Non hanno fatto passi da antire Per il punto di vista Static Static Ma il rischio sempre Sì 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 Ma è Cioè Nel senso È Perfettamente Sensato È una tecnologia Che va forte È una roba che va forte Ci sta Gimdirector Sì Sì È una roba che va forte Andiamo a cancellare Modell'esistenza Non c'è Surprised Piccalface Oh Cynthia Minchia Cynthia Che combini Cynthia Combini lì In idol pose Long time Long time is He Lieser Pogadus Film Yes bella ma in realtà abbiamo tanto grind, abbiamo scoperto un bel po' di meccaniche dell'underground, interessante ma sicuramente sarebbe di essere Crypto Minets. Icanda. Billin punto! Ah no, sono Billin anch'io. Eh questo è brutto, questo è secret purtroppo. Il futuro aspetta che Riot davvero, perché sono sicuro che anche Riot si mora per fare i miei tipi di skin. E ci sarà la skin che hai solo tu funzionata. Aha, milioni di euro di skin. 30, 80 ethereum di skin. Quanto costa questo? Ah, si costa due bitcoin. Ah, yeeees. Eeees. Eeees. 8000 euro. 3000 dollari, perdonatemi. c'è un video. Eeees. Compare la skin una vez che il me va. Eeees. Eeeeh. Eeeeh. Devo andarne a comprare anche altre miele Gira per il E' buio Non devi, non devi 1-hit KOarla, vabbè Ah no, non bene Faccio per forza il 1-hit, è troppo potente, non posso non fare 1-hit KO, devo mettere la roba più scarsa Mettiamo lo swap, va Stomp Dragon Breath Semplice, lineare Ma su, grazie Potrei provare anche adesso, catturarlo Spero di non crittare, perchè il fatto è che comunque Gira figga un cacceretco altissimo, ti prego un po' Sapiente Ok Ovviamente la paralisi non è vera, io lì lo vedete paralizzato ma è tutto finto Per ora Per ora Nooo Porca la puttana Nooo Sono un clown Sono un clown Mi sono distratto che stavo leggendo Premuto all'altra oltre di troppo Sono un clown, sono Sono un clown, porca puttana Sì P riot Ciò Pioto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pam 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 pam. Grazie a tutti. Andami. Oddio, lui è per... Allora... Ah, perché c'è una sola variante terra, però non mi sembra che non è questa. Allora... Dall'altro di Drago Fucused... Oh... Dalla di Drago Fucused... Dalla di Drago Fucused... Dalla di Drago Fucused... Che... Che ho per livelli praticamente per forza. Io non ne ho fatto niente di particolare oltre tutto poi. Dalla di Drago Fucused... 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 per un oggetto, oddio non ricordo mi piace speciale comunque again, piantine, dietro c'era l'albero di miele è sempre così è sempre così, cioè nel senso design ora facciamo anche questo percorso per farci tutti gli altri allenatori ovviamente chiaramente ah era una caramella rara, bene, una pacca sulla spalla tipo bravo, ok con più forma ha portato la zero o porta zero? no? ok ok è proprio un po' che mordile l'acciaio oh no dammi i soldi e alla fine lo faccio per quello no no ah sì, spike, non è morto jed, non è morto come poco, sì, il pokemon che ha 200 milioni di difesa ok 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 Fodder. Fodder. Nemici fodder. Uno solo? Chi sarà mai? Sheldon. La potrebbe avere... No, cazzo! Triggered... Triggered... Crobat! Perché hai commesso un errore! Hai avuto la tua occasione. E l'hai sprecata. È il momento di entrare in quella caverna. Pure no. Tutto mi ha fatto andare avanti. Sono arrivato in realtà. Oh no! Come potremmo andare a finire? Gastly contro Crobat con Morzu! No! Calma! No! 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 Il Drehvus, Miss Drehvus, c'era una condizione per diventare Miss Drehvus e non ricordo qual'è. Mi viene in mente tipo che doveva imparare alla ombra, una cosa del genere. La caverna è lo scopro ruvino che va avanti ogni o non che catturi. Big passaggio. Posso fare un counter qua dentro? La nero pietra, ah! No! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ma ti immaginavo, vedete? Alcuni Pokémon tipo Ho-Hot, questi qua, non stanno nel Pokédex di Sinnoh Però li puoi catturare uguale Dicevo che non erano nel Pokédex di Sinnoh originale Grazie a tutti Ecco l'assi il campione Ecco l'assi il campione Tutta l'erba altissima ovviamente Cricchettune Un'altra cosa c'ha di Probopass? Eh, se ti interessano i rocciano le piazzi sotto Io penso che per i Garchi ho preso Garchomp Shiny GARCHOMP GARCHOMP Ma sai, c'è, c'è, è quello che anche li vedessi, è più buono Un po' un po' castore per dentro Ci saranno Pokémon rari mentre va lì sopra Geodude e Cricchettune Lo chiamerò sempre Cricchettune con questa inglinazione Un altro Geodude Un po' punita Ah, yes! Pokémon rari! Yes! The legendary The legendary Ponita Che ha l'ho super reppellente Questa E così non è provato Che è giusto Bene? Oh! 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 finte ninja che vogliono farsi demolire da me almeno guadagno i soldi dai ninja bella fabian perché hai un geod fabian spulo esse ora dovrò grindarne altre e metterle tutte per staccare il suo potere il problema è che non ti dice l'effetto ma poi ragazzi mi spiegate perché questo ninja ha i pokemon di uniker siete buggati non hai un perso un geod tre geod ma perchè te ne ha girato il geod geod senza parole ragazzi mi faccio anche con piacere questi fight oltretutto però mi ricordavo che c'era qualcosa per esempio ah yes Beh sì Vorrei giocare dei Pog La nebbia Non si chiude un cazzo Grazie Doma, doma Spera, spera Ah ok Sono stupido Devo andare a prendere altro mito Il Zubat è giusto per un ninja Spera 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 Guardalo quel pallido di Crobat Semplice comune Crobat Gli sotterranei Ogni volta che si raccolgono Quaranta cose Le Diglett Omente Ne troppa l'aria Di ogni stato E Shiny Ah ecco Ah ecco Ah ecco così che cambia Ok Ok Vabbè 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 Musaltaria Spera Togli Togli Dragon Breath Togli questo Living Failure di Dragon Breath Che poi in realtà Dragon Breath non è male eh Perché può paralizzare Però c'ho signo Sì Ok Adesso ti facciamo così Adesso ti facciamo così Adesso ti facciamo così no bum 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 E' troppo potente! L'animazione di Drago Pruz sarà bellissima Eh sì, questo dovrebbe bastare adesso. Eccolo! Come on! Maledizione. Sabaku non fa... cioè, non è che è parte, fa... fa... non è interno al team, eh? Ricordiamo, ragazzi, questa cosa. E lui fa... come dire, è come un playtester interno. È un playtester interno, sì. E poi dà consigli in base appunto al fatto che comunque ha esperienza nel genere e quindi può... È ovviamente capace ed in grado di fare paragoni dal prodotto che noi stiamo sviluppando. Ehm... Ha un normale Souls-like. Quindi noi abbiamo chiesto... noi... è questo qua che noi ci teniamo tantissimo. Perché noi ci teniamo a fare un Souls-like a prescindere da tutto quanto quello che poi noi andremo a variare. Cioè... quindi per questo noi stiamo... Includiamo un Sabaku... Poi una serie di cose che non posso dire. I NDA! Doge! Doge tutto! Doge! Allora... ok... No, 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 è più interno... è più interno di così. È più interno di così. Ehm... 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 Comunque... Tra le... Io... cioè... se... 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 se devo... Tiene una capacità che ho... a prescindere da tutto... Non... Non mi attribuisco tantissime cose ma... Se... ma il sangue freddo sì. Quindi sì. Pressioni sì, ma la so gestire la pressione di questo tipo qua. Cioè io ha... anche da uno o due giorni dalle consegne. Perché riesco a mantenere la freddezza e la chiarezza mentale. Cioè... se ho una skill è quella. Quindi... Chiaramente più il progetto diventa grosso e come avete visto il progetto è non gigante di più. Avell... Forti! Sprappchi! voilà hola hola pic buon salve oh 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 il sereno ha troppi pp le trappole di souls cioè è un souls vedi questi dettagli non me li ricordo quindi non è questo è troppo ma non mi hai ancora dato colp lol ma dextox non ha abbastanza di pesa io non so se ce la faccio per questo che non so se non so se che ne non non Shadow Ball Play up, play up, play up Palombra sbagliata Sorprendi che non si è morto, no po' Dove ribattere il suvado Drago Pulsar Drago Pulsar Oh, qua si finisce qui, molto bravo Grazie Grazie Questo è utile quando vado nei sotterranei Della mia PS5 Mamma mia, sì Qu'è tutta? Grazie 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 Ci Grazie 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 Sandy Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Una selezione ristretta di cose Non so mai Sì! 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 Dammi le 65.000! Finalmente! I pieni poteri! I pieni poteri! Le veloxball! Il bene assoluto! Che dici? È tutto a posto, tutto a posto Eh, devo andare sotto Sì sì, lo so Il dipetto è solamente l'Exp Share per adesso L'Exp Share sempre attivo permanente Quello Quello è il dipetto Ed è davvero l'unico dipetto Per ora Perché per il resto sono diamante e perla Cioè sono loro Per il 90% sono loro ragazzi Faccio il culo Sì Ma è tutto a posto Hai diventato messo Ti ricordo che questa è Pochi drip Diamante e perla Ma che pensi di stare parlando? Altaria Obliteralo Cancellalo dell'esistenza Basta Fine Fine Che pazzo fa? L'air up è uno per Ok Si vede Quindi Dragobulza Sì Bellissima animazione Dragobulza Cioè il leader Prende comunque più esperienza Che gli altri Eh però Dragobulza 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 E' un'altra E' un'altra E' un'altra No, siamo quasi live da dieci ore, Artur Hanks. Quale live infinita? Siamo appena a dieci ore. Questa non era una 48 ore, scusatemi, ma scusatemi. Chia, Cyrus. Miley Cyrus, volevo dire, scusatemi. Miley! Eh, volevo dire, Cyrus! Questa è una casettina che è simile a quelle che stanno su Dagioto, by the way. Non so chi di voi l'ha notata sta cosa. Ok. E io qua ho fatto. Minchia, minchia, la nebbia immediatamente è tornata proprio. Tempo zero. Eh, adesso penso che posso battlare. Esatto, posso tornare qua. Ora posso combattere! Volo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado nelle porte sbagliate perché incontro gli allenatori. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 3u è molto molto bello Ma 3u ti punisce tantissimo Ti punisce tantissimo se rush Ti punisce proprio tantissimo Spero che Spero che Spero che Spero che Spero che Spero che Bravo Miss Dreyfus Non vedo l'ora che diventi Miss Magus Non so se il Gengar ha il 34 No Ok no è più veloce lui E' il Gengar è veloce serio Cazzo ci aveva tipo Sciato bolsa e esplosero Probabilmente Che c'è di un'ora che mi ricordo più No mi snagio Non so se sono più veloce io Oh mio Dio Ho fatto Confuse Rail Sì Poteva fare Shadow Ball E distruggermi Ti prego Miss Dravus RNG Un ottavo Team No Sì No È sopravvissuto Holy shit Vabbè no no Aspetta 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 no Deve usare la super pozione Ok Magari Ho fatto un low roll Miss Dravus Devi farlo di nuovo Status Shiny Ah ok Trovano Shiny Krogant Nelle cose Nella status Una troia Porca di quella Puttana bastarda Un Delurted Self In Confusion Ok Maledetta Puttana Ehm Shadow Ball Aspetta da quando Questa mossa Da quando Allora Ok Mi dovrebbe attaccare Per primo No Sì Non mi ricordavo Che era Questa Dove rifà Da zingin Aaaaa Aaaaa Minchia Mi... Non rifà Da zingin Maledetto Confuserei Perché la Buddha Questa non fa Cosa a casa Mi portano anche Acqua Scraggio sì No Penso ai trucchi Senti due azioni prima Ovviamente Non si ripeterà Colpirai con un po' Il songeb Che sono Che sono Sì, perfetto Dai, hai detto di usare quello lì Ammazza E dai, cazzo, però Cinque turni di Confuse Ok, quanti sono? Quattro e quattro E' andata Ho sudato, eh You are so fantastically strong It's fantastic Much stronger, wow Posso usare... Surf, ok Game 65, ok Shadow Claw, oh, buono Rai trovare una Duskstone, eh Perremi sdravus Mazzola, quant'è stanza c'era, no? Cynthia Sì, cazzo Grazie a tutti. Allora, bene. Innanzitutto salviamo. Secondo di tutto... Sì, infatti dovrei andare qua. Ma prima faccio una tappa qua. Ovviamente al negozio di moda devo andare, è chiaro. Vado a vedere cosa posso drippare. Non so. No, secondo me questo è ancora il migliore. Cioè questo è swag, per carità. Ma questo... Chissà se A ne aggiungeranno altri, B e si sbloccano altri dopo. Avrebbero dovuto farli sbloccare, come ne ho forse. Per me è stato finito. Siete dei falliti. A livello di Pokéball siete messi davvero male, ragazzi. Siete dei falliti. Siete dei falliti. Siete dei falliti. Siete dei falliti. allora. Siete. Mamma. Ah, aspetta, di chi ha provarla? Ah, è il puntatore. Nel dubbio compro uno di Dazzling Gleam, un altro di Ice Beam, c'era Giga Drain, ma c'è Giga Impact. Ah, no, Miss Dravos può imparare calmamente, figo. Tarude Sandstorm. Non può impararlo. Drain Punch può impararlo Toxic Rock. Il cancro! Può cancreare con Drain Punch. Io lo insegno. Probabilmente sì, ti tolgo counter, che tanto a te non ci fa niente. Counter è decente, solo nel momento in cui puoi effettivamente tankare. E hai po' rotta. Se menti, è inutile. Sono molto in dubbio. Dove è Dazzling Gleam? Ecco qua. Ogni. I'wagricion. Nero che c'era. Ma che c'era. I'wagricion. I'wagricion. Spy fa piedi quando potrebbe arrivare con l'ascensore in due secondi. Hmm. Grazie a tutti B-Barrell Io sono sicuro comunque che hanno ridotto le distanze per arrivare da una parte all'altra La sicuro quasi al 100% raga Non me le ricordo così brevi le distanze Grazie a tutti 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 C'era solo il turno 1 però, quindi se ti va male, ti va male. Bella Burzoff, ma che fai Burzoff? Stai chiedendo se è una replica, oppure indifferita, oppure... È tutto vero, Burzoff. Ecco, è esattamente ciò che stai pensando, credo. È la leggendaria Never Ending Livestream. Sì, siamo a 10 ore di live, tutto regolare. È tutto vero. Sì. Penso che mi hai messo il National Dex, no? Cioè, non lo so. Dove sei detto, vabbè, l'ho persa. Invece. 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 Non c'erano, non c'erano, non c'erano takiego altro. Idete. Uno batteriziere della Branson. Questa è una exemplo. Questa è una collina mobiliore. Non vedete la invita e non rarazione. È che sia un relino. Sì vorrei andare anche di nuovo nei sotterranei una droga ai sotterranei dentro di Dark Knight che mi svolta questo pallito si deve interrompermi mi viene da coprire il poker loll non voglio tardi che mai è è è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevo controllare chi è il trainer. Dopo... dopo ci andremo. Perché sono rientrato qui... Grazie a tutti. Ok... Oh... 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 c'è il problema che hai anche veleno questo problema non lo ha a Quex, ecco scarubi, ok non so se posso... forse con Ice Beam gli faccio male è uguale ah, mi ha messo la stampa ah no più missile e... più missile e cose, quello è ottimo non è Bullet Seed che Bullet Seed mi sarebbe immaginato buonasera MBX stato numero 3 alla Kazam ah stica, Shining stica stica merda porca puttana si ed... boh diventa tanchissimo pure? no no big no big eh sì sì, Stilix è forte niente da dire stica 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 non c'è non c'è ma è che è un'altra cosa ma è che questo posto qua è un labirinto che è o DUDO non farà un mix non farà un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non l'avresti mai fatto, mi hai letto Yim... No, non è vero. Poteva averlo fatto. Poi son Jeb. Piazza a lot of damage in Kang. Non scrivere spoiler, Arturenz. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Bella Byron. Minchia, bronzor? Stupido, bravo. Spero che non c'è una roba particolare tipo psichica che mi fa 4x. Ovviamente non è caduta, no? Eh, c'è il cazzo. Però no. I modi vanno a caso. Ti ha Trick Room! No! Trick Room! Maledetto! Maledetto! Mi farai meno tra i 0 e i 0 danni. Maledetto! 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 No! Fine. Perché? 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 I'm switching out. I'm switching out. I'm switching out the shit. Ok. That's fine. This is fine. That's fine, that's fine, that's fine. Dario, dentro Trick Room con la Sandstorm. Qualcos'altro? Metti pure un altro stress stop. Così. Totalmente a cazzo. Sono più lento di teee, quindi sono più veloce di teee. Eh, in serio, mi dico... La giudica prima cosa. No, ma il suo... Il suo... Il suo Syngiagr, non è... Ah, sì, 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 sì. Ovviamente sì, togli il Wager. La giudica è la special... Ah no, in realtà no. Il Physical Attacker, cosa? Sì. Beh, non lo switcho subito, ma... Ma c'è, c'è... Non il Dragoose è più lento di steel. Attenzione. Non c'è i danni. Ciroble! È salato damage, immagino. Trick Room è svanita? Ora no. Vero? Sì. Quindi è mio. Oh, forse il Trick Room è svanita ed è per questo che mi si era bussata anche prima. Hai fatto il Moe a Pokémon? Certo che sì, è chiaro. E ora lui c'è Bastion, no? C'è il Signore. Però, unlucky, ho l'evitazione. Però penso che me lo fa fuori. Penso che me lo fa fuori il Mr. Abus. Flash Camp, ok. It's ok. Ah, mi ha crittato. It's ok, it's ok. Va bene. What can possibly go wrong? Niente, il fatto. Un bugno in testa. POM! WAPA! Sshh. Ho fallito, esatto, sei un fallito. Arrenditi. Ma la vera domanda è, posso lucidare le medaglie? Perché questa cosa qua, cioè, non... Attenzione, perché? No, non, non, non. No, non, non, non. Grazie a tutti Grazie a tutti Che propissore Grazie a tutti 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 Poi perché dice che puoi beneficiare anche di quelli dei tuoi alleati Quindi magari fate un gruppo tutti con le statue che pompano i draghi E sarà tipo abbastanza lunga immagino Voglio andare prima qua, prima di andare avanti Fade out, fade out, fade out, fade in E' nessuno Grazie a tutti Rivello? Rivello? Anche se onestamente ce n'ho solo uno. Ce n'ho due. Di nuovo. Considerando che siamo dentro una grotta, sì, non è una buona idea di tenere... Facciamo così. Facchiamoli di nuovo. Non sto a tipo dovresti non sentar niente. Nole. Ha sopravvissuto. Interessante. It's sure! Loda al sole! La Loda al sole restituisce il 50% di HP del Pokémon. Non ho più di clayerare la parte sopra. Già vedo che sarà una zona abbastanza rompiballe. Ok. Cazzo. Ma scherzo è proprio. Ok. Niente ricordo. Giusto per far prima se dobbiamo uscire. Vedo che forse non naccio al male. Mi può naccio al male perché ogni passo sbagliato che... Sbagliato. Ogni passo diverso che faccio lo hanno... Questa zona è immensa. Ho... Questa zona è immensa. Faccio così tanto male? Non pensavo? Va bene Allora ragazzi Ebbene sì Dopo queste 10 ore e 51 minuti di live stream Oggi ci dobbiamo lasciare Quindi io ringrazio tantissimo Tutti quelli ovviamente che mi hanno seguito I nuovi sub Tutto quanto Purtroppo domani Non penso Non penso fortemente Che tra domani e mercoledì potrò fare Live stream di nuovo Ma E da mercoledì in poi Faremo Ripeto Io sto cercando di lavorare A fare un calendario vero e proprio Quindi Giorni Miscellania tipo questo Monster Hunter Che probabilmente sarà Old Gen E fare E poi da E poi i Souls Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 Perché Bloodborne L'abbiamo già super portato E super uber finito E Sai che non l'abbiamo già Super finito Quindi probabilmente sarà Da Dark Souls 1 Da serie sui Souls Se la facciamo Beh bene Comunque Grazie mille ragazzi Per tutti quelli che hanno seguito Questa live L'apprezzo davvero tanto Questa è una delle Live lunga 10 ore 52 La ritroverete sul canale Io vi ringrazio per aver seguito E ci vediamo alla prossima Spero che vi sarei divertiti Almeno quanto mi sono divertito io Belle a Grazie mille ragazzi